Hey, ciao! State per vedere la quarta puntata dell'altrettanto quarta stagione del Breaking Italy Night nel bellissimo Teatro Dalverme, a Milano. Ho condiviso il palco con Matteo Renzi, politico che non necessita di grosse presentazioni, che infatti non farò. Vi preannuncio solo che è stata una delle puntate in cui mi sono divertito di più in assoluto e sono contento che siete qui perché sto per condividere con voi quel momento così come l'ho condiviso con le 1300 persone circa presenti in teatro. A tal proposito, come faccio sempre, un ringraziamento speciale a tutte e tutti quelli di voi presenti lì in teatro in questa stagione finale di questo particolare format del Night e a Tridom e NordVPN che hanno finanziato il progetto, rendendolo materialmente possibile e disponibile. Tridom, li conoscete, sono quelli, peraltro toscani come Renzi, che piantano alberi in giro per il mondo. Vi lascio un link alla foresta di Breaking Italy, fateci un giro. NordVPN li conoscete altrettanto bene perché manca poco che mettano la mia faccia in cartellone pubblicità in tv e anzi rinnovo il mio invito. Doveste fare queste pubblicità? Io ci sono, perché ormai il mio brand è molto legato a loro e non è un caso. È un ottimo servizio, lo uso da tempo in memore e lo consiglio sempre a tutti. Sia per la VPN, che aiuta a rendere più sicura la navigazione, specialmente quando avviene da reti non sicure, in giro negli uffici, eccetera, sia perché hanno molti altri servizi che potete anche avere in un unico pacchetto dal prezzo estremamente conveniente. Nel senso, parliamoci chiaro, offrono abbonamenti che includono protezione dai malware, spazio cloud crittografato, un gestore di password multiutente, la VPN che si può usare in tantissimi modi, per un abbonamento mensile che costa meno di quanto costi sostanzialmente qualsiasi abbonamento medio online a qualsiasi cosa. Anche quelli per giocare ai videogiochi online costano molto di più. Insomma, è molto conveniente. Fateci un giro, dateci un occhio e se passate tramite me avete una scontistica importante, quindi ovviamente passate tramite me, così fate sapere loro che vi ho mandato io. E quindi facce nei cartelloni. Io voglio crederci, la mia faccia nei cartelloni e nelle pubblicità. E la gente dirà, ah, hanno preso i robazzi anche per fare... e allora io sarò triste. Per il resto era tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, sempre leggere tra le righe di quello che dicono gli ospiti, perché come in ogni cosa ci sono vari livelli di lettura, anche in una chiacchierata tra persone. C'è quello che si dice, quello che si dice con il corpo e quello che si decide di non dire. Vi voglio bene, buona visione. Signore e signori, dal Teatro Dal Verme di Milano, per Breaking Italy Night, Alessandro Masala! Buonasera! Buonasera! Che bello, grazie mille! Che emozione! Grazie a tutte e grazie a tutti, bellissimo! È come oggi, la sentite un po', in realtà non so, sentite il mio... io sono agitatissimo, quindi dico, magari anche voi, però in realtà vi siete comodi lì, io sarò comodo qua. E si parla, questo è più o meno, per chi non l'avesse mai visto, questo è quello che potete aspettare. Volevo dire una cosa, questo è un paese, io l'ho sempre detto, è una cosa che ripeto, che dà delle etichette, no? E io ho una vita che continuo a scherzare sul fatto di che cosa sono, sono uno youtuber, sono un giornalista, sono un divulgatore, sono... che cosa sono? E questo paese ti dà delle etichette, quindi ci sono delle cose che ci si aspetta, realisticamente, dalla figura in base a quello che è o dovrebbe essere, o si dice che questa figura sia. Quindi lo youtuber in genere tu cosa dici, ah, è quello che fa, non so, gli scherzi, le cose, non si prende sul serio, il giornalista è quello che fa il giornalista, appunto, quello che può significare in questo paese, insomma, dove i giornalisti spesso non si capisce bene se sono politici o se non so, ci sono dei problemi, però io ho sempre cercato di mischiare vari elementi. Una cosa che ho sempre messo nel lavoro che faccio è inserire sia il lato umano delle persone, quindi morire inizia la tiratina sul lato umano, la persona dietro la maschera e quella roba lì, sia un'analisi dell'evoluzione, delle parabole delle persone. Ed è una cosa sulla quale sono ossessionato, perché credo che racconti moltissimo il percorso di ognuno di noi. Tutti quanti iniziamo da un punto, nella nostra evoluzione facciamo un arco narrativo, quindi sono anche uno scrittore sostanzialmente. L'arco narrativo di Renzi è sempre stato una di quelle cose che mi ha incuriosito. Questa adesso arriva alla parte in cui vi dico che ho 40 anni, lo faccio ogni volta. Però ho 40 anni e tutti quanti nella mia redazione sono più giovani di me. Ovviamente ogni volta quando si parla dell'ospite che arriverà, vi chiedo allora cosa ne pensate, cosa chiediamo, cosa facciamo? E ogni volta ho la conferma di essere più vecchio di loro, perché mi rendo conto che il mondo politico di ognuno di noi dipende dal punto in cui il politico con cui siamo nati, la prima volta che abbiamo votato, il politico dei nostri 18 anni, da che punto è nella parabola. Io questa cosa l'ho sempre notata ad esempio con Beppe Grillo. Beppe Grillo per me è una figura che io ricordo prima, quando era un comico, ricordo nel momento in cui era a Barricadero, lo ricordo poi nell'omento in cui è diventato de facto il capo del Movimento 5 Stelle e poi piano piano quando si è allontanato. L'ho vista tutta la parabola. La totalità dei miei collaboratori no, è nata politicamente che Grillo era già il Grillo che conosciamo. Ecco questa cosa per me è molto vera per Renzi, perché quando io ho iniziato il mio percorso da divulgatore, Renzi aveva 39 anni, io ne avevo 30. In Renzi c'erano molte aspettative, c'era un racconto su Renzi, sul mondo renziano, chiamiamolo così, il rotamatore, che è molto diverso da quello che si fa adesso. In questi dieci anni sono successe delle cose che l'hanno portato a essere raccontato in modo estremamente diverso. E io mi sono sempre chiesto cosa è successo, ma non cosa è successo da un punto di vista politico, perché noi lì lo sappiamo cosa è successo, no? Prima c'era il 40% delle europee, poi le cose sono andate male, poi il referendum, parliamo di tutto, di tutte queste cose, ma mi chiedo sempre cosa è successo da un punto di vista umano. Cioè, come è possibile che parti con l'essere quello che salverà il paese, perché questa era la narrazione che si faceva, cioè io ve lo giuro. Poi va bello, ma c'è qualcuno meno giovane di me ci sarà, nel senso, se no è una tragedia. Ecco, grazie mille. Ma da un punto di vista umano, però sul microfono, quindi aspetterò l'ingresso di un presidente operaio, se la gestisce. Grazie mille, un applauso ad AUX che è... E quindi stasera lo scopriamo. Vi chiedo un applauso a Matteo Renzi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Allora, lo sai, anzi lo sai perché ci siamo detti che ci saremmo dati del tu, quindi questa cosa la dico perché sennò sembra un po' antipatico, che arriva e dico, eh, cumpa... Non ci sta. Inizia bene, vedo. La tradizione del mirto, la conosci? Bisogna bere. Bisogna bere. Non bisogna, però dico la stessa cosa che ho detto a Conte. Schlein ha bevuto, Conte ha bevuto, Civati ha bevuto. Beh, Civati ha bevuto anche il tavolino, conoscendo Pippo è una persona seria. Siamo andati anche a bere dopo con Civati, effettivamente è stato un disastro. Sai che con Pippo, lo sai ovviamente tu, forse, sì, lo so faranno anche gli altri, ma Pippo è stato il primo con cui abbiamo fatto partire la Leopolda. Era ormai 12 anni fa, no, che 12 anni fa, 13 anni fa, 2010, fantastico, 2010, tu c'eri, quindi, beh, è chiaro. E Pippo era, vabbè, penso che sia un talento della politica e anche del mirto, però sulla politica posso testimoniare io, sul mirto e su quello che beve puoi testimoniare meglio tu. Ok, è una frase, diciamo, che mi è stata detta questa, ma è fattuale, è fattuale. Quindi, se ci sta… Vai, partiamo dal primo. Bisogna brindare per bene. Vai, yeah. Ma va finito, no? Non è che va finito. Io bevo quando tu bevi, la regola è questa. Allora, questo, palla al centro. In realtà io non vorrei partire da palla al centro, perché innanzitutto vorrei focalizzarmi su te come persona. Io ho letto tutti i tuoi libri. Ho ben detto. No, sono uno che fa i compiti. Ho letto La mossa dal cavallo. La mossa dal cavallo inizia all'interno, a un certo punto, lo dico per chi non l'avesse letto, una citazione di Machiavelli che dice, ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei. Dalla descrizione che tu fai di te stesso in quel libro, sembra quasi che ti vivi come un incompreso. Come se effettivamente ti fossi preso sulle spalle una descrizione, una figura che non ti appartiene. Quindi io la prima domanda che vorrei farti è, tu ti senti un incompreso, umanamente e politicamente? Io mi sento una persona felice, umanamente. Tutto tranne che un incompreso, tutto tranne che uno, arrabbiato con se stesso, vittima dell'umanità. Quindi se la lettura che si può trarre da questa frase di Machiavelli è che io sono un incompreso, no, non lo sono. Quella vicenda era una vicenda molto particolare. La mossa del cavallo è lo strumento con il quale prima, lo strumento, il metodo con il quale prima mandiamo a casa Salvini che in mutande dal papete senza bere Mirto, ma bevendo roba evidentemente ben più pesante del Mirto, aveva chiesto i pieni poteri. E per fare quella mossa là, rischiando l'osso del collo, perché Salvini aveva i numeri per andare a votare se noi non ci fossimo messi di traverso, io devo accettare di fare l'accordo con i Cinque Stelle. Nel momento in cui in Parlamento mi fanno questo gesto, perché avevano arrestato i miei genitori. E allora io sentivo la fatica di dover fare una cosa che secondo me era giusta per il paese e che umanamente mi dilaniava, perché io avessi potuto dire quello che pensavo dei Cinque Stelle e di quelli che mi facevano il gesto ai miei genitori che secondo me erano stati arrestati soltanto perché erano i miei genitori e poi abbiamo visto quello che è successo. Ecco, in quel momento io ho sofferto molto dal punto di vista personale. Nel frattempo ero l'uomo più odiato d'Italia. Ancora me la batto, ma sta migliorando. Purtroppo sto perdendo questa leadership, ma insomma conto di… E perché chi è che sta cercando di pendere? Eh beh, insomma, è una bella gara, peraltro è al ribasso, ma ero indagato plurimo. Cioè, ora io la dico scherzando, ma quello che è successo a me è da un lato devastante, dall'altro bellissimo. È uno stress test per il carattere e per l'anima che io suggerirei a tutti se non fosse che ci si soffre un po'. Cioè, io sono stato per un periodo l'uomo più potente, amato d'Italia, poi improvvisamente, ovviamente anche per errori miei, non sto dicendo che non avessi sbagliato qualcosa anch'io, ma anche perché parte un sistema contro, divento il più odiato d'Italia e nel momento in cui sono al minimo storico del consenso, prima faccio fuori Salvini che stava chiedendo in quella misistituzionale imbarazzante della mutanda e del pelo al papete, insomma una cosa inguardabile. E poi faccio fuori Conte, portando Draghi, con una soddisfazione personale e politica che non riesco a sintetizzare, ma che sostanzialmente è per me un capolavoro machiavellico. Però l'ho fatto quando avevo il minimo consenso. Allora, questo è un bel guazzabuglio di sentimenti, però non mi sono mai sentito incompreso, sono felice, ho la mia famiglia, vedo la bellezza che mi circonda e anche la possibilità di essere uno che la mattina si alza e dice grazie per tutto quello che ha avuto, che ha e che continua ad avere. E quindi incompreso no. Dopodiché se io fossi stato con un altro carattere forse non sei qui. Ve la dico, so che non dovrei dirla, ma persone che hanno vissuto quello che ho vissuto io, ingiustamente, persone che hanno vissuto quello che ho vissuto io, si sono ammalate, hanno sofferto di depressione, qualcuno ha fatto peggio e allora tutto sono, tranne che un incompreso, il mio sorriso non me lo levano. Però insomma mi hanno fatto un bel mazzo, ecco, questo sì. E sono felice di essere qui a dire, sapete che c'è, io continuo a lottare, più mi volete buttare giù e più sono in campo. A voi auguro di avere la fortuna di vedere quelli che vi, come si può dire, leccavano le terga in modo elegante, potremmo dire quelli che vi adulavano, anche se l'altra cosa rendeva meglio l'idea, quelli che vi adulavano all'improvviso vi accoltellano. Io ho visto gente che faceva la fila per darmi la mano, il giorno dopo non salutarmi e dirmi chi è questo, giorno dopo no, ma un mese dopo sì. È un'esperienza umana fantastica perché ti scopri allo specchio e dici a me il giudizio che interessa è quello dello specchio e delle persone che mi stanno accanto. Non sono mai stato così felice quando se ne sono andati gli adulatori e sono rimasti gli amici veri, credimi. E quanto ci hai messo a realizzare questa cosa? Perché io non credo che tu sul momento dicessi che bella questa cosa che mi sta accadendo. Io sono tornato a casa dal famoso referendum, quella geniale intuizione che rifarei, perché secondo me il referendum serviva e serve all'Italia. Torno a casa per dare un'idea che poi dice ti dovevi dimettere da tutto. Io mi dimetto da segretario del PD e da presidente del Consiglio, da presidente del Consiglio prima e poi da segretario del PD. Solo che torno a casa, però non ero parlamentare, avevo lasciato il lavoro per fare il sindaco, non ho un ufficio, torno a casa e arrivo in Taverna, Pontassieve, via del Capitano 13 e vado nella mia scrivania. E arriva Emanuele che aveva allora 12 anni e mi dice, babbo, questo è il tavolo mio ora. Sei andato via. Quindi io non ho fisicamente un tavolo. Dire che ero felice, però poi con tutti quelli che mi dicevano, io peraltro che volevo levarmi di forno del tutto prendendo un po' di offerte internazionali per andare a fare esperienze all'estero e dall'altro lato gli amici che mi dicevano rimani in campo, rimani in campo, ma nel frattempo mi ero dimesso, non ero più presidente del Consiglio, non ero più segretario del PD. In quella fase lì ci ho messo tanto a... Cioè, se mi vuoi dire, ma un po' rosicavi? Beh, questa è la domanda. Parecchio, parecchio. Però tu dici rifarei referendum, nel senso intendi rifarei, cercherei di fare la riforma costituzionale, perché tu il referendum in realtà non lo volevi fare. Referendum? Beh, io il referendum ho fatto degli errori, non la personalizzazione, come dicono tutti. Quello non è stato un errore. Ma quello era nei fatti. David Cameron, 2016, grande anno per fare il referendum, ma è geniale, quelli che hanno fatto il referendum nel 2016, Cameron è andato a casa, io a casa. Santos, il presidente della Colombia, fa un referendum nel settembre sull'accordo di pace, una cosa molto più seria, con le FARC, lo perde e se ne frega. E la cosa divertente è che lo becco poi a un evento, a una di queste conferenze all'estero, sono sul tapirulà, arriva lui, mio amico! Perché lui diceva terza via con allegria, questa è la nostra parola. Evidentemente sapeva la mia padronanza dell'inglese, e quindi diceva terza via con allegria. E mi si avvicina e gli ho fatto, scusa, ma è possibile che io ho perso il referendum e sono andato a casa? David ha perso il referendum e è andato a casa? E te? Ma non li devi ascoltare i referendum? Fai il referendum e poi fai come ti pare. Ecco, io ho amato Santos. Quest'applauso, ragazzi, non è quel che si dice un trionfo della democrazia. Contro la democrazia. Esatto. Ci sta. Stai applaudendo contro la democrazia. Bevi. No, ma quello che io volevo dirti è... Però devi bere. Però io sto bevendo di più. No, ho capito, ma hai detto... Il trucco è che io bevo poco e te... Ok, va bene. Però la personalizzazione non è... Allora, ovviamente ci sono tanti errori fatti. C'è un errore. Qualcuno di voi fa scienze politiche o l'ha fatta... Sapete qual è la più grossa... L'errore. Bene. La più grossa idiozia che ho fatto, che andrebbe messa nei manuali di comunicazione politica, non ne parla mai nessuno. L'errore è sull'affluenza. Cioè io mi convinco che... E qui è un errore da dilettante, altro che Machiavelli. È un errore da ragazzino ed è un errore che non mi perdono. Io penso che se allargo la partecipazione vinco meglio. I sondaggi... Poi ci sono una serie di altri fattori. Referendum inglese, campagna di fake news, che da noi non è decisiva. Ma in Regno Unito sì, ti ricordi tutto lo scandalo Facebook. Elezione di Trump. Quindi ci sono tanti fattori che incidono profondamente. Vittoria dei Cinque Stelle a Roma e Torino, che cambia... Ti ricordate la raggi? Cambia il vento. Ora noi ironizziamo su quella frase, ma allora fu percepita come un grande cambiamento. Due giovani donne alla guida di due tra le città più importanti d'Italia. L'errore è, Alessandro, io prendo e faccio un ragionamento e dico se aumento la partecipazione vinco meglio. Aumento la partecipazione e i sondaggi davano ad aprile il 30% di affluenza con noi al 70 per il sì. Quando l'affluenza va al 70, il sì scende dal 70 al 40. Perché? Perché va a votare una fetta di popolazione che non era minimamente interessata al titolo quinto della Costituzione. Non gliene fregava niente del CNEL. Erano interessati a mandare a casa chi era al potere in quel momento. Quindi lo rifarei. Detto questo, quel referendum lì è ovviamente una ferita che un po' di tempo ci ha messo a cicatrizzarsi. Ma se mi dite quali erano gli argomenti contro? È che Renzi voleva fare il dittatore. Sì, è vero. Che Renzi voleva cambiare il titolo quinto per prendere più potere lui. Oggi, col senno di poi, possiamo dire con chiarezza che quel referendum magari riguardava argomenti su cui tutti possiamo non essere d'accordo, ma era ben poca cosa rispetto a quello che veramente questo paese meriterebbe. Cioè, noi oggi abbiamo Renato Brunetta, presidente del CNEL e il governo Meloni, coi soldi del PNRR, che ridà vita al CNEL. Ragazzi, io mi tengo il referendum e tenetevi il CNEL, tenetevi Brunetta, tenetevi quello che vi pare. Preferisco aver perso una battaglia che essere complice di un PNRR che dovrebbe rimettere in vita il paese e rimettere in vita a Brunetta, ragazzi. Vabbè, ma allora, nel senso, quello che io stavo dicendo è che tu non è che volessi il referendum, perché in realtà, lo ricordo per qualcuno, c'era, almeno si pensa che ci fosse un accordo a Monte con Berlusconi per far passare questa riforma costituzionale che poi non passò, perché, insomma, la famosa rottura del patto del Nazareno. Io me la ricordo molto bene quella fase. Ti ricordi molto bene il passaggio di Berlusconi? Sottovaluti un momento, ma è niente rispetto al ragionamento che fai e su cui poni una domanda a cui voglio dare una risposta. Giusto per precisazione, per puntiglio, quando ancora era in vigore il patto del Nazareno e si immaginava di avere una maggioranza superiore a quella necessaria per non andare a fare il referendum, io dissi voglio fare comunque il referendum. Quindi me la sono proprio cercata. Però su Berlusconi, premesso che io non riesco a non parlarne con il rispetto. Lo si vede nel libro. Cioè per me, io sono l'unico presidente del consiglio di centrosinistra a cui Berlusconi non ha dato il voto. Berlusconi ha dato il voto di fiducia a Letta, beh anche Prodi naturalmente no, ma a Letta, a Gentiloni. Con me erano tutte battute, era un rapporto umano, vero, ma non mi ha mai votato. Delle volte era fantastico Berlusconi, perché una volta mi disse io e te abbiamo fatto insieme il Jobax. No Silvio, il Jobusax l'ho fatto io e tu hai votato contro. Ma dai, ma cosa dici? È come se l'avessimo fatto insieme. Ma ho capito, ma Forza Italia ha votato contro. Oppure ricordo spesso una roba di Berlusconi che mi fece morire da ridere. Noi rompemmo, poi arrivo sul patto del Nazareno, rompemmo il rapporto sul patto del Nazareno, del patto del Nazareno sulla vicenda Mattarella. Ma il rapporto con Berlusconi è rimasto perché io sono sempre stato uno che non ha mai attaccato la persona. Io gli ho sempre detto non ti voto. Sei sicuro che non hai mai attaccato la persona? Perché tu ultimamente contro Conte... No, 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 fermati. Su Conte e la persona io attacco politicamente Giuseppe Conte che considero una banderuola. Ok. Ma ho un rapporto personale che mai sono andato sul piano dell'attacco personale, anzi, anzi. Però parlando di Berlusconi, per chiudere su Berlusconi, poi su voi su Conte apriamo un film. Berlusconi era attaccato e lui attaccava anche naturalmente. Berlusconi è stato l'oggetto, come posso dire, di una contrapposizione devastante in questo paese tra chi lo amava alla follia e chi lo odiava. Persino dopo la morte si è continuati. E trovo assurdo che la Procura di Firenze continui a indagare su di lui, di fatto, nel momento in cui lui non c'è più. La trovo una cosa allucinante dal punto di vista ideologico. Però il mio rapporto con Berlusconi è stato un rapporto che nasce perché, a parte vabbè, lui arriva a Palazzo Medici Riccardi una volta perché avevano fatto una stupidata quelli di Forza Italia, gli avevano fatto trovare un palazzetto dello sport vuoto e lui si installa in prefettura ad aspettare che quelli di Forza Italia riempiano un po' il palazzetto perché lui possa parlare. Io sono presidente della provincia, la prefettura è al piano di sopra e mi dice il prefetto, senta, il sindaco non vuole venire, può venire a salutare il presidente del Consiglio, lei? E io dico ma certo, guardo anche se gli chiedo un po' di soldi, però questo vado su. E io non sapevo che venisse Berlusconi, ovviamente non avevo mai immaginato che quel giorno 2005 avrei visto Berlusconi e quindi ero vestito con un abito di velluto marrone. Ora Berlusconi mi viene incontro e fa ma lei non è quello che viene dal marketing, ma uno come lei che viene dal marketing e ci veste come i comunisti, ma che succede? Io capì già lì che era una storia ed è continuata per anni fino agli ultimi, l'ultime settimane, uno dei momenti più belli che ricordo sempre, piena campagna elettorale, avevamo già rotto il Nazareno 2018, Berlusconi va in tv dalla Durso e dice e quando c'eremo il governo cancelleremo l'accordo di Dublino che Renzi ha firmato e ci ha fatto invadere dai migranti. Io guardo la registrazione, vedo la Durso, vedo Berlusconi e dico caspita anche te Matteo, ma perché ti sei messo a firmare l'accordo di Dublino? Ma perché? Poi ci pensi e dico ma l'accordo di Dublino l'ha firmato Berlusconi nel 2003, quando io avevo appena finito l'università, che domani? Allora lo chiamo e gli dico Presidente, ciao, sono Matteo, ciao, come stai bene? Dice, ma anche una settimana abbiamo finito. Sì, senti ma che hai detto dalla Durso? Cosa ho detto? Hai detto che l'accordo di Dublino l'ho firmato io, e non è vero? No, l'hai firmato tu nel 2003, ma dai sono cose che in campagna elettorale ci dicono. Ok, ma che ne fai? Io lo trovavo un mostro di simpatia da questo punto di vista. Facciamo sta cosa allora, perché ci sta il mostro di simpatia. Dopodiché lui non mi ha mai votato, io non l'ho mai votato, io l'ho sempre rispettato e questa cosa credo che umanamente lo abbia, e lui è stato molto carino quando hanno arrestato, carino, molto umano, quando hanno arrestato mia mamma e mio babbo, che è una cosa che a me sta qui, perché voi potete fare male a tutti, ma se fate male alle persone vicine a voi vi sentite in colpa, perché mio padre e mia madre fino a 65 anni erano due persone normali, dopo che io sono diventato premi sono diventati Bonnie and Clyde, 15 procedimenti penali, zero sentenze di condanna. Magari a quello arriviamo tra un attimo. Per fartela breve, Berlusconi mi chiama e mi dice la mamma no. E io lì ero in macchina e mi sono messo a piangere da solo, perché umanamente penso sia normale, cioè questo tema è un tema... Berlusconi ho trovato un'umanità che in altri compagni della sinistra che erano con me non l'ho mai trovato, cioè il grado di umanità di Silvio Berlusconi non è minimamente paragonabile al grado di umanità di Massimo D'Alema, per dirne uno a caso, diciamo, diciamo, diciamo. Per dirne uno, ma che dici? Allora a questo punto ti chiederei, perché anche io ho trovato che queste cose che tu stai dicendo sono un po' nel libro, nel senso che ne stai dicendo delle altre, però il fatto che tu abbia sentito Berlusconi vicino nei momenti in cui effettivamente c'erano le inchieste che coinvolgevano i tuoi genitori è evidente che in qualche modo ti abbia toccato e quindi tu ne parli, insomma, approfonditamente. Ma nello stesso libro, e quindi a questo punto ci entriamo un attimo... Oh, l'ha letto davvero? È l'unico che ha letto il libro? No, no, io sono uno che fa i compiti tantissimo, è proprio un problema che mi porto dietro. Il sottoritolo di questo libro, Parla al Centro, si chiama La politica al tempo delle influencer, che, nel senso, io l'ho letto e ho fatto, oh, ok, perché io spesso vengo definito influencer. Sostanzialmente il riassunto di questo concetto nel libro è che tu distingui molto la figura del politico da quella dell'influencer e parli di politici che vorrebbero fare gli influencer, che seguono il like, che seguono il facile consenso, che dicono le cose che le persone vogliono sentirsi dire. E mentre io leggevo queste cose dicevo, ma questo è Berlusconi. Cioè, questa cosa che tu stai descrivendo è... Tu ovviamente dici la Meloni è così, Conte è così, adesso se vuoi ne vuoi parlare sarà molto interessante, ma anche Berlusconi era quella cosa là. Berlusconi era ancora di più. Io parlo delle influencer partendo dalla Ferragni, anche perché ci avevo una vicenda aperta con Chiara su una questione legata ai diritti civili. Parlo della Meloni, parlo di Casalino e del mio incontro segreto a Mykonos con Casalino. Io avevo tutta la famiglia dietro, lo ripeto sempre, ma eravamo a Mykonos sulla spiaggia io e lui. Berlusconi è un'altra categoria. Berlusconi inventa il populismo. Cioè, negli anni 90, se l'Italia è stata la Silicon Valley del populismo, se il populismo fosse stata una start-up, l'Italia sarebbe stata la Silicon Valley. Perché? Perché Berlusconi si inventa un capolavoro tattico e contemporaneamente il contrario del mio modo di far politica, mettendo insieme al nord la Lega che voleva l'indipendenza della Padania e al sud a N, che era appena uscito dal momento in cui erano considerati da tenere nelle fogne, questa era l'espressione che girava, lui riesce a tenerli insieme con un linguaggio e un meccanismo che è chiaramente molto più che influencer, è totalmente rivoluzionario. Io, un impatto del genere, per me negativo in quella fase, sulla politica italiana non credo l'abbia mai avuto nessuno sui modelli della politica. Cioè, la democrazia cristiana era un'altra cosa, il Partito Comunista era un'altra cosa, il Partito Socialista era un'altra cosa. Arriva Berlusconi ed è un cambiamento radicale che spazza via Occhetto e la gioiosa macchina da guerra e costringe anche il centro-sinistra e l'Ulibu a inventarsi un modello diverso. Diverso dal punto di vista del posizionamento politico, ecco Prodi, che è tutta un'altra cosa rispetto a Berlusconi, parte questo ping pong tra Berlusconi e Prodi, 1994-96, 2001-2006, però per 2008 di nuovo Berlusconi, dopo che crolla il secondo governo di Prodi dell'Unione. Nel caso degli influencer, qual è la mia critica? Tu devi utilizzare i social. Per esempio, Alessandro fa un capolavoro su YouTube e trova un meccanismo di comunicazione figo. Poi puoi essere d'accordo o non d'accordo, prende più applausi, tizze piuttosto che caio, questo è secondario. Questo tuo meccanismo di utilizzare alcuni canali, alcune piattaforme a cominciare da YouTube è oggettivamente una cosa molto interessante, tant'è che io sono felice di essere invitato da te qui come lo erano persone ben diverse da me ma che sono venute prima di me. Poi c'è un modello. Ci sono tanti aspetti positivi dei social. Ci sono aspetti relazionali, aspetti culturali. C'è però un punto, quando il politico smette di avere un'idea e segue l'algoritmo come se fosse un suggerimento di Netflix e tu hai, ecco allora Giuseppe Conte, il Giuseppe Conte che prima fa il governo con Salvini, populista e sovranista, e poi fa il governo con Zingaretti, europeista e progressista, allora lì vuol dire che non hai più un'idea politica che cerchi di affidare ai social. hai un meccanismo in cui l'algoritmo ti porta dove vuole e io essere schiavo dell'algoritmo anche no, grazie. Però quello può anche essere pragmatismo, perché tu parli anche molto spesso del fatto che il contrario del populismo sia il pragmatismo, sia la politica intesa come compromesso. Quello potrebbe essere visto come un compromesso. Per me il compromesso è sacrosanto. Io ho utilizzato i social in un modo che mi è stato contestatissimo. Io ero al Quirinale, stavo discutendo con il compianto presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché volevo mettere un ministro e lui non lo voleva e alla fine a costituzione vigente decide il capo dello Stato. Questo per chi pensa che ci sia adesso. Decide il capo dello Stato. Magari aveva ragione lui, non voglio stare a discutere di questo. In quel momento lì, siccome mi rendo conto che i media stanno dicendo che cosa sta succedendo, cosa sta succedendo, faccio un tweet dal mio telefonino e scrivo arrivo, arrivo. Sì. Mai fatto un presidente del Consiglio una cosa del genere prima di uscire, sciogliere la riserva. Quindi io sono accusato di essere uno che ha utilizzato fin troppo i social media. Però una cosa è utilizzarli per dare dei concetti che tu puoi condividere o meno, ma per portare avanti delle tue idee. Altra è per seguire l'algoritmo. L'algoritmo ti dice picchia qui e tu picchi qui. E allora qui c'è un problema, secondo me, di dignità della politica e anche dell'informazione. Ormai è tutto un talk show. I politici non sono più politici, sono ospiti fissi delle trasmissioni. Fateci caso. La figura del politico è diventata la figura dell'ospite fisso. Il giornalista non è quello che fa le domande, ma è la controparte. Il pubblico pagante o non pagante, talvolta pagato perché è lì per fare lì applaudire, applaude tizio che dice A e cinque minuti dopo Sempronio che dice Z. Ma ci avete mai fatto caso alcuni applaudi televisivi. Perché parte quello che, come lo chiamano, lo scalda pubblico, che inizia a dire applaudite e applaudono. Quando io dico sono sovranista, dopo dieci minuti parte uno e dice i sovranisti sono la rovina dell'Italia, le stesse persone applaudono allo stesso modo. Pensate voi che avete pagato, invece, per venire a approvire. Sbagliato tutto. Qual è il modello politico? Fino a che lo fate voi, ragazzi, se pagate per applaudire A e B, problemi vostri. Ma quando un presidente del Consiglio nel giro di un anno dice A e il contrario di A per restare lì, questo è il modello del populismo e dell'influencer applicata. Cioè, non è possibile che tu firmi i decreti Salvini e poi tu faccia il punto di riferimento progressista. Pensatela come volete sull'immigrazione. ma se fai i decreti Salvini non puoi essere il punto di riferimento della sinistra. E questo è un dato di fatto oggettivo. Non esiste che su questa cosa non ci sia chiarezza. No, questo è chiaro. C'è da dire, quindi tu dici io non l'ho mai fatta questa cosa, non ho mai avuto delle uscite populiste o comunque una riscaccia del consenso. No, no, io ho spesso cercato di, soprattutto negli anni del governo di, virgolette, vendere bene certe iniziative. Ti faccio un esempio, gli 80 euro. No, ok, ma quella è un'altra cosa. No, no, ma ti faccio l'esempio perché gli 80 euro è una cosa, gli 80 euro come misura non è una misura populista per me. No, no, per niente, anche secondo me. Perché secondo me serviva il ceto medio, qui tutti parlano di salario minimo, di reddito di cittadinanza, nessuno parla del ceto medio. Dieci anni fa io arrivo e dico bisogna dare una mano al ceto medio. Per dare una mano alle famiglie, dico diamo un tot. Facciamo i conti. Ricordo che c'era un peraltro milanese, un deputato milanese che si chiama, che ora non è più deputato, Joram Gutgeld, che era quello che aveva il compito di fare la revisione della spesa, che mi porta a una tabella e mi spiega che c'è un coefficiente per cui ciascun italiano debbe avere un tot di aumento della propria busta paga sulla base del coefficiente. Una cosa che io non avrei mai potuto spiegare. io mando e mi dice se fai così tutte le statistiche diranno che è riduzione delle tasse. Se non fai così la considereranno spesa sociale. Per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare adesso. Io me ne sbatto e dico io non posso spiegare il coefficiente, dico 80 euro per tutti. Non è che a quello di 1200 gliene dava 82 e a quello di 1400 euro ne prendeva 78. Dico a tutti 80 euro. È giusto? no. Però è molto più semplice da comunicare. Questo è populismo. No, questo non è populismo. Come no? Populismo è dire alle persone quello che vogliono sentirsi dire non è semplificare un concetto. 80 euro li vendeva volentieri. Se devo essere sincero dimmi un po' di robe populiste mie. Che hai detto tu eh? Quando te la prendi con l'Europa e dici l'Europa non ci fa più dire Gesù ci fa dire cucù l'Europa non ci si può più dire Buon Natale dai queste sono delle robe inascoltabili Matteo. Su questo sono talmente populista che su questo marco un dissenso fortissimo. Io lo trovo una delle battaglie fondamentali non tanto in cucù ma il principio. Ma non è vero. Fermo lì questa è un'opinione è tua? No non è un'opinione. No fermati lì ora fai bravo devi farmi dire quella mia opinione e poi mi dici non sei d'accordo. Mi tasso come si fa nelle trasmissioni tv mi lascio parlare quando uno mi dice mi lascio parlare di solito parla per due ore quindi fai bravo. Io su questo tema ho proprio una diversità profonda rispetto a te io trovo che la cancel culture sia uno dei problemi più grossi che ha questo nostro paese. Sì oh no ragazzi fermi non applaudite perché se applaudite quella prima e quella dopo è un casino fermi poi dopo ti do 20 euro lascia la parte soprattutto dividetevi c'è chi applaude lui ma da una parte che avessi stato un e due applaudito lo stesso adesso io mi tazzo e mi spieghi qual è il problema della cancel culture il problema della cancel culture per me è uno dei temi che ci porta a sottovalutare una delle emergenze culturali ed educative del nostro tempo che parte non da cucù e Gesù che non parte da Buon Natale ti faccio l'esempio di un'altra religione parte quando i talebani distruggono le statue del Buddha vi ricordate? c'è qualcuno tutti più giovani probabilmente te te lo ricordi però beh i talebani decidono di distruggere le statue potremmo tornare a Goebbels che brucia i libri ma facciamo la versione breve il meccanismo è molto semplice la cancellazione dell'identità culturale arrivando a affermare un'omologazione per cui tutto oggi è presente non c'è radice non c'è passato non c'è storia è un elemento che ti fa venire meno la tua stessa umanità io non dico che tu devi essere credente e quindi devi dire Gesù ma non puoi dirmi in una paese nel quale si è sempre fatto quella era una canzoncina può essere il Buon Natale una tradizione culturale si è sedimentata che poi anche dei profili religiosi per chi ci crede l'idea che arrivo io e la cancello come cancello Cristoforo Colombo negli Stati Uniti come arrivo a porre problemi a Mary Poppins o a cos'era l'ultima che ho visto non mi ricordo quello che sta accadendo nelle università americane in questo momento in questo ragionamento io dico siamo all'intelligenza artificiale sta cambiando tutto l'elemento dell'identità culturale è l'elemento chiave per noi se noi non abbiamo un'identità culturale con la quale aprirci al confronto se noi non partiamo da una nostra identità culturale e pensiamo che si possano cancellare le radici di ciò da cui proveniamo noi stiamo distruggendo la nostra identità io ritengo che identità non sia una parola di destra identità è una parola bella è il contrario di integrazione fammi dire una cosa come? fammi dire una cosa perché il punto non è quello quello che tu stai dicendo è corretto l'identità culturale è la base della formazione non mi dici è populista allora dimmi che non sei d'accordo no aspetta mi consenta è populista dire che sta avvenendo questa cancellazione perché non è vero nessuno sta dicendo nessuno sta dicendo che non si possa più dire Gesù è Buon Natale si cerca semplicemente di ampliare la fetta cioè noi non stiamo buttando aspetta mi lasci dire mi lasci parlare lei ha parlato per 20 minuti mi taccio mi taccio mi taccio guarda vi faccio un esempio io sono sardo sono molto legato alla mia identità territoriale perché l'avevo intuito diciamo sono ragazzo per spicaccio c'è molto più diciamo del mirto sono molto legato a tantissimi elementi allora io faccio la testa così non ne frega niente a nessuno ma io continuo a dire la Sardegna è fighissima questo è quello ma il fatto che ci siano anche altre questioni tipo il Natale che non è una roba sarda per dire perché la cultura sarda viene da tradizioni pagane che sono ancora molto presenti non è che cancella la mia identità l'ha semplicemente ampliata io sono ateo ma festeggio il Natale è la mia festività preferita e se potessi cioè se significasse mangiare principalmente festeggere anche la fine del Ramadan perché per me è molto figo o il Capodanno cinese questo non significa che allora vale tutto nel senso io rimango comunque legato alle tradizioni che ho sempre avuto ma nessuno sta dicendo oh no adesso per il rispetto di tutti non si può più dire Capodanno cinese ma bisogna dire Capodanno alternativo nel senso non c'è questa cosa posso? sì ho finito qui finisce il mio tacere e inizio il mio parlare fermati allora prendo io su questo tema sono apro e chiudo una parentesi 30 secondi questo è bellissimo poterne parlare in modo civile e tranquillo perché è il tema del futuro e io penso che investire in cultura anche oggi hanno fatto un attentato in Russia come avete visto in un luogo di musica come era accaduto col Bataclan ormai nove anni fa è affermare che la cultura è un tema centrale del dibattito politico è una cosa che non succede mai io la considero la priorità assoluta e quindi ti sono grato per la possibilità di affrontare questo argomento sul Buon Natale stai dicendo te la dico alla Fiorentina perché io tengo alle mie origini ed è ed accade alla Badia Fiesolana stai dicendo una bischerata e ti dico perché non è che quello ha detto dite come vi pare Bon Noël Feliz Navidad no quello ha scritto un documento ha detto quello è un funzionario dell'Istituto Universitario Europeo l'Istituto Universitario Europeo ha sede alla Badia Fiesolana la Badia Fiesolana è un posto magnifico come quasi tutta Firenze ed ha anzi in realtà il Comune di Fiesole però ciò nonostante va bene lo stesso e vede le colline piene di tabernacoli della Madonna chiese presenze religiose lui si affaccia dalla Badia Fiesolana e dice non potete dire Buon Natale lo scrive in un documento ufficiale dovete dire Buona Festa dell'Inverno ma sti grandissimi feste dell'Inverno ma chi è questo tizio è uno che grazie alla ma chi se ne frega bene allora ti voto se chi se ne frega va bene perfetto no ti voto il punto è che non è che sei arrivato a darmi ragione sei stato un po' populista non è che in Europa il Consiglio ha detto facciamo sta cosa non è che è arrivata Ursula von der Leyen e ha detto adesso guai Ursula von der Leyen ci abbiamo un capitolo ne parliamo dopo fermi tutti fermi Ursula von der Leyen parto ora e faccio una non stop Fidel Castriana no ma infatti la mettiamo alla fine la mettiamo alla fine a me basta che tu dica che non è populista la mia puoi non essere d'accordo con me ma tu non mi puoi dire che di tutte le cose populiste che ho detto che ci sono un'infinità non mi dire che è populista la battaglia per la canzone e il calcio Giordano fuori dal coro ci voglio dai per carità vorrei con tutto l'affetto lo dico a favore di camera con tutto l'affetto vorrei segnalare che ho visto qualcuno che ha applaudito sarete chiamati i testimoni nella causa per diffamazione con tutto l'affetto che intendo avanzare nei confronti di costruzione era uno dei pochi giornalisti che non avevo ancora querelato e adesso te la becchio era tutto sai caro a me basta che tu mi dica che questo tema della cultura oh caspita abbiamo messo i soldi io sono stato il sindaco che ha raddoppiato i matri quadri delle biblioteche Borges dice immagino il paradiso come una gigantesca biblioteca sono il presidente del consiglio che ha fatto la legge sul cinema sul teatro la 18 app per dire ai ragazzi non stare fisso sull'instagram a guardare costantemente apri gli occhi vai in un museo vai in un teatro ho fatto investimenti in cultura come mai come non ci fosse stato un domani arrivi te e mi dici populista sull'unica roba seria che ho fatto e dai dimmi populista perché ho cercato di raccontare la riforma costituzionale dicendo tagliamo le poltrone su quello ti do ragione cioè mi sto anche facendo le critiche da solo sono una fase incredibile io vengo da Masa non aspetto le polemiche io boh vabbè ma avevano detto i miei non dagli spazio perché poi ti attacca io caspita mi faccio l'autogol vabbè comunque ti invito alla badia fiesolana no ma io vengo volentieri poi ti do anche un panino all'ampredotto così smettiamo questo mirto però ok allora cambiamo un attimo l'argomento poi ci arriviamo a Ursula perché io veramente impazzisco ma Ursula era quella della sirenetta in passato sono stata un po' cattiva no è roba che voi siete troppo giovani vabbè la sirenetta la conoscono tutti quanti di voi conoscono la sirenetta no la sirenetta di pochissimi ma siete pazzi la sirenetta quale non fare il populista la sirenetta di Disney dimmelo non va bene la sirenetta di Disney in passato sono stata un po' cattiva a una strega assomigliavo in verità no no dillo ma la sirenetta è un problema ovviamente perché non ho cambiato l'attrice sta diventando la zanzata questa non la sapevo adesso abbiamo questa non la sapevo dal casello di Carisio hanno fatto la sirenetta di colore però io voglio parlare di Ursula von der Leyen sei un po' fissato con la cancel culture te alla fine no no perché mi perché mi colpisce no e basta vabbè vabbè no comunque allora mi colpisce il fatto che tutti scrittori francesi che sulla cancel culture avevano capito tutto un secolo fa chi sono? beh innanzitutto per me è Char Peggy ma se vuoi anche salendo verso l'Inghilterra Chesterton io su questi temi starei ora a discutere con te su tutti perché vabbè parliamo di Ursula no 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 non parliamo di Ursula adesso perché una cosa alla fine Ursula se la dimentica lo dirai no 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 io ho un rant su Ursula che guarda ve la facciamo appunti ma tanto dopo il Mir e vincerai tu perché tu vai a correre fai ancora le tue cose faccio le mie cose caspita sono dimagrito 10 kg è stata l'unica cosa su cui ho interessato i media per tre mesi infatti sei un sacco parlato andavo lì dicevo io ho questo problema sulla geopolitica tra il Middle East pensavo di parlare del nuovo ruolo degli accordi di Abramo sì ma la dieta intermittente chi te l'ha consigliata? tra l'altro posso fai la dieta intermittente? lo fai anch'io la faccio è solo Joe Rogan cioè stiamo fermi tutti torniamo però non sai a me chi l'ha suggerita chi te l'ha suggerita? non dovrei dirlo però lo dico Fiorello Fiorello? è una roba allucinante cioè Fiorello evidentemente non ha nulla di meglio da fare ma ci siamo trovati nel Natale scorso nella festa dell'inverno dello scorso anno sì perché adesso hai fatto bene così nessuno si offende è arrivato c'era Babbo festa dell'inverno lì che era e e e al di là delle battute poi sono andato sono andato dal professore Angelini a Empoli e ho fatto la maratona in 3.58 adesso è finita la parte di orgoglio da 50 anni sono proprio rincoglionito come tutti i 50 anni c'è qualche 50 anni che ha fatto la maratona qui? ha subito abbassato la mano lui ha alzato la mano poi l'ha subito che ha fatto la maratona giuro vabbè torniamo a Breaking Italy Night c'è un tema che per me è molto centrale che è la tua parabola io ho vissuto con grande entusiasmo quando tu avevi 39 anni e venivi descritto come il politico bambino tra ricordi questa cosa ma cosa era Max che ti aveva fatto il fotomontaggio con il Liberon addirittura mi ricordo questa adesso non mi ricordo esattamente aspetta era sì però non mi ricordo chi comunque mi ricordo questa cosa 39 anni giovanissimo per la politica in realtà tu venivi da un percorso in realtà di tutto rispetto non eri piombato lì e mi ricordo l'entusiasmo che c'era attorno alla tua figura lo dico proprio sinceramente tanto che mi capita molto spesso lo dicevo allora all'inizio quando insomma prima che tu entrassi come quando io parlo con persone più giovani di me mi dicono che tu sia stato il primo che hanno votato in generale perché sono nati politicamente con te poi c'è stata questa parabola insomma di cambiamento ed è siamo arrivati al Renzi conferenziere che è quello che ti viene detto spesso perché una cosa che io ho fatto è stato oltre confortami con la mia redazione eccetera dire in giro che avrei intervistato te e moltissime persone hanno tirato fuori i due elementi che sono il referendum di che abbiamo già parlato l'Arabia Saudita di cui ancora non abbiamo parlato ne vorrei parlare non me l'aspettavo beh lo so una domanda sorpresa sì tu cerco di ho visto mille mila intervista in cui tu ne parli quindi cerco di anticipare quello che mi dirai ma il fatto che tu continui a dirti orgoglioso del fatto che hai questi rapporti con l'Arabia Saudita con Bin Salman addirittura al netto del video che è circolato Bin Salman insomma tu che dicevi del rimascimento tutta quella roba lì che confermo te l'aspettavi no no ho letto i tuoi libri quindi quello che tu dici sostanzialmente lo riassumo io o lo riassumi tu il fatto del lo riassumo io però sul conferenziare mi permetti di dire che io sono molto felice e anche un po' stupito che qualcuno mi voglia ancora non soltanto poi arriviamo all'Arabia Saudita che diciamo mi immagino sia il focus di questa parte ma dagli Stati Uniti alla Cina dal Sud America in Europa che abbiano voglia di ascoltare ciò che io ho da dire perché o sono totalmente rincoglioniti che è una ipotesi oppure evidentemente c'è qualcuno che riconosce che lo sguardo sulla realtà che non soltanto io ma alcuni di noi danno è interessante cioè ormai è da sei anni che giro per il mondo un'attività guardate che non faccio solo io ma un'attività che è del tutto legittima e consuetudinaria per ex capi di governo e che hanno fatto anche altri italiani prima di me non è che l'ho fatta solo io l'ho fatta Enrico Letta l'ho fatta Mario Monti l'ho fatta Romano Prodi nel mio caso è diventato uno stigma perché è il dove non è il cosa non ho iniziato prima poi ci arriviamo al dove se sei d'accordo mi toglierei il tema conferenziare e andrei sulla rabbia però il tema del conferenziare io sono orgoglioso di questo cioè io sono ovviamente felice della mia esperienza politica tutte le volte mi dicono ricordo un dibattito con Salvini mi ha detto io non vado a giro per il mondo a fare conferenze retribuite e io gli risposi da Vespa per forza a te non ti chiamano Salvini questo è il motivo fondamentale ma questo è semplice è banale Salvini io non ci vado a te non ti chiamo poi c'è il punto successivo che è detta della conferenza è messa da parte della conferenza l'Arabia Saudita che se sei d'accordo visto che vuoi uno sguardo diverso l'affronterei su più livelli il tema numero uno è quel paese il tema numero due è quel leader il crown prince Mohammed bin Salman il terzo è la mia compatibilità con ciò che faccio mi sembra che siano questi tre punti certamente se ho dimenticato qualcosa dimmelo non voglio al massimo aggiungiamo dopo però ovviamente queste sono le tre cose le tre critiche principali che vengono mosse partiamo dal dato di fatto l'Arabia Saudita è storicamente un paese cruciale che ha giocato un ruolo al di sotto delle proprie potenzialità l'Arabia Saudita è un paese grande più della metà dell'Europa ed è il luogo nel quale hanno sede i luoghi santi dell'Islam soprattutto la Mecca due su tre considerate che spero di non sbagliare se c'è qualche fedele musulmano può correggermi credo che sia proprio un dovere del fedele musulmano recarsi una volta nella vita in visita alla Mecca quindi ci sono un miliardo e mezzo due miliardi di persone che una volta nella vita devono andare in Arabia Saudita quindi l'Arabia Saudita è un paese straordinariamente cruciale per quel mondo il capo dell'Arabia Saudita è il custode dei luoghi santi e l'Arabia Saudita è sempre stata storicamente un paese in buoni rapporti con gli americani ma anche un paese dal quale sono nati alcuni fenomeni terroristici Osama Bin Laden la famiglia Bin Laden era la famiglia dei principali costruttori in Arabia Saudita erano 50 fratelli 48 49 50 fratelli 50 familiari 50 fratelli un po' tanto ma la famiglia Bin Laden è la famiglia dalla quale esce colui il quale fa quello che sappiamo qual è il mio giudizio sull'Arabia Saudita sono due giudizi diversi uno geopolitico e uno legato al processo di riforme che sono cominciate con Mohammed Bin Salman il tema geopolitico è questo dopo il 2001 torri gemelle il mondo si divide tra chi finisce il racconto di chi diceva la fine della storia Fukuyama professore di Stanford era Fukuyama che è ancora vivo Francis Fukuyama che è un professore dell'università di Stanford molto interessante ha scritto delle cose bellissime vitocracy il potere del vetro ora non voglio andiamo sulla sostanza torri gemelle non c'è la fine della storia qualcuno teorizza lo scontro di civiltà si dice l'attacco al cuore dell'America è lo scontro tra due civiltà questa lettura è molto rafforzata da tutto il mondo islamico estremista il mondo islamico estremista è un mondo islamico che è quello che sostiene la teocrazia in Iran che paga Hezbollah che paga Hamas che cerca di creare le condizioni perché tutto il mondo musulmano dichiari guerra all'occidente e ha bisogno che l'occidente dichiari guerra all'islam questo è il tema di quando io divento presidente del consiglio non è solo l'Iran è anche l'Arabia Saudita che fa questa cosa qua no dopo ci arrivo ma non è così l'Iran e l'Arabia Saudita sono due cose ben diverse e questo Alessandro te lo dico perché è importante che sia chiaro te sei mai stata un'Arabia Saudita no no ma anche una roba tutta quello che vi sto dicendo ora memorizzatelo tra tre anni così come tre anni fa dicevo alcune cose che poi si sono verificate con la mia consueta umiltà senza arroganza vi dico tra tre anni finirà come vi dico io però non c'ho fretta quindi va bene fammi finire il ragionamento perché questo è un punto importante io divento presidente del consiglio lasciati dire che divento presidente del consiglio senza una grande attenzione a questi mondi quindi ammetto una mia difficoltà all'inizio poi che cosa succede? poi iniziano gli attentati cioè in quel periodo lì l'attentato non è soltanto alle torri gemelle ogni settimana ogni mese c'era un attentato in Europa ragazzi io facevo il capo dei servizi segreti o meglio ero il presidente del consiglio a cui riferivano i servizi segreti ogni giorno c'era un allarme dopo se ci sarà tempo ti racconto una cosa simpatica che però fu drammatica allora c'è un'allerta 11 agosto 2016 con noi che siamo convinti che ci sia un attentato terroristico cioè noi vivevamo nel terrore e cercavamo di non farlo vedere troppo però 7 gennaio 2015 Charlie Hebdo in quell'anno un sacco di attentati io ho passato i miei 40 anni 11 gennaio 2015 alla marcia organizzata da François Hollande contro i terroristi a Parigi dov'è il punto sul quale io mi faccio un'idea? è quando dico noi dobbiamo lavorare con i mondi islamici moderati riformisti per isolare i terroristi ok me lo spiega benissimo Sheikh Mohammed che allora era il crown prince degli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi ok che tiene anche Dubai Abu Dhabi è la capitale Dubai è negli Emirati e lui mi dice guarda che voi non capite che noi per noi questo è come il vostro quindicesimo secolo quando in piena stagione tra il Medioevo e il Rinascimento i cristiani erano divisi se le davano di santa ragione tra noi lui dice tra sunniti e sciiti ma più correttamente tra riformisti ed estremisti è la stessa cosa questo è quello che è il giudizio che io do di quel mondo ok nel frattempo conosco un po' meglio l'Arabia Saudita che era totalmente ai margini del dibattito perché in Arabia Saudita vigeva il principio che quando moriva il re gli succedeva il fratello voi capite che altro che gerontocrazia italiana se tu hai 11 fratelli perché di questo si parla 8, 10, 12 fratelli e tutte le volte che ne muore uno ci va il fratello quando muore quello di 80 anni ci va quello di 78 quando ci va quello di 81 ci va quello di 79 ed è una roba dove se magari uno vive 87 anni ci va quello 84 cioè una situazione dove un sistema molto vecchio e questo impediva l'Arabia Saudita di provare a fare un cambiamento radicale all'interno con metodi che non sono propriamente democratici le primarie le hanno fatte in un altro modo loro diciamo così Mohammed bin Salman che è uno dell'85 cioè uno nato nell'85 quindi non ha 40 anni io lo conosco nel 2015 quando io ho 40 anni e lui ne ha meno di 30 vedo questo che investe in Uber investe nella Silicon Valley mi fa tutta una serie di ragionamenti che io lo guardo e gli dico questo mi sta prendendo in giro quando io lo conosco le donne non guidavano la macchina e lui mi parlava dell'empowerment femminile e gli dice guarda empowerment fate guidare la macchina prima di fare l'empowerment lui lancia un progetto di riforme che è spaziale se non abbiamo il coraggio di guardare la realtà per quella che è quel progetto di riforme non so se ce la farà fino in fondo me lo auguro ma è un progetto di riforme che porta a fare i concerti che prima non si facevano perché per noi un concerto è normale io ero lì quando hanno fatto il primo concerto le ho viste le ragazzine togliersi il velo di andare a sentire la musica è un cambiamento culturale straordinario lui che cosa fa? fa questo con i metodi sauditi che non sono i metodi occidentali cercando di tenere comunque la parte del clero dalla sua parte perché lui non può esagerare al momento non puoi ancora bere alcol a Dubai sì in Bahrain sì c'è una coda il venerdì per andare in Bahrain dall'Arabia Saudita la gente va a bere anche altro che Mirto ma questo percorso culturale e ho finito sull'Arabia Saudita è un percorso culturale per me straordinario ok questo ci sta e io studiatelo Vision 23rd sì sì ma lo conosco ne abbiamo parlato tantissimo perché è un'altra delle mie cose un giorno andiamo insieme dopo essere passati alla Badia Fiesolana si va a Riyadh e io vengo fatto a pezzi in un secondo netto perché ti assicuro che è quello che mi accadrebbe visto tutto lo storico delle cose che ho detto stai dicendo una cosa che non esiste te non hai idea di quanta gente ha critiche questa idea guardate diceva qualcuno che è più facile spezzare un pregiudizio è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio credetemi io non voglio su questo anche perché poi c'è tutta la parte mia dei miei rapporti l'incompatibilità MBS eccetera quindi arriviamo anche a quella però se vi dico questa cosa è perché questa cosa sta accadendo chi va lì si rende conto che sta cambiando il mondo poi è chiaro che non c'è la democrazia occidentale fermiamoci un'altra ma adesso andiamoci piano piano nel senso tanto non abbiamo mica fretta si sta qui fino alle 6 siamo qua l'Arabia Saudita luogo come hai detto tu che è di grande rinnovamento l'Arabia Saudita è guidata da una famiglia come hai detto tu il fratello l'altro fratello l'altro fratello e adesso Mohamed Bin Salman con tutta una serie di manovre possibili omicidi situazioni perché dai chiamiamole cose per quello che sono situazioni violente come minimo ha preso il controllo del paese di fatto ha il controllo del paese per quanto il padre sia ancora formalmente il re lui ha il controllo del paese i sauditi sono parte del wahhabismo che è una sorta di setta di movimento che è nato nel settecento e sono dei fondamentalisti cioè loro predicavano è proprio una cosa che è nata a Riyadh il ritorno alla lettura del Corano in maniera radicale tu dicevi Bin Laden è nato lì e anche i talebani sono nati lì tanti movimenti molto radicali sono nati dalla cultura dell'warbismo che è tuttora egemone nel paese questo non lo dico io ma lo dicono anche se io non ci sono mai andato è il caso che io non ci vada poi vediamo anche perché perché quando dicevo mi fanno a pezzi è letteralmente mi fanno a pezzi non è così Ale stai proprio dicendo una cosa che va bene a te non me l'aspetto perché è vittima di un pregiudizio ok aspetta poi li rompiamo i pregiudizi ma io mi ricordo nel 2015 era uscito un bellissimo articolo su New York Times di Kamel Daud che è un giornalista algerino che fece un titolo che fece parlare tantissimo e forse l'avevamo anche ripreso in Blacking Italy che era l'Arabia Saudita è un ISIS che ce l'ha fatta e mostrava lui che fa parte di quel mondo e lui è musulmano quindi nel senso è all'interno di questioni che magari io potrei affrontare con una certa superficialità lui si rendeva proprio conto di come l'Occidente per convenienza perché io la ritengo un po' una convenienza tendesse a non vedere alcuni aspetti molto brutali di quel regime che assomigliano in tutto e per tutto all'ISIS cioè in Arabia Saudita puoi essere ucciso per apostasia non è una questione di le donne possono guidare è una questione di utilizzare la religione come non c'è una distinzione tra governo e religione Alessandro stai dicendo una cosa che è vecchia di dieci anni credimi stai dicendo una cosa io non voglio fare lo spot visit Saudi l'ha fatto Messi e come dire prendendo è una cosa che stai dicendo un articolo del 2015 Alessandro stai dicendo una cosa che non è più così ma credimi un caso oggi non verrebbe fatto a pezzi caso oggi non era in Arabia Saudita è un'altra storia è peggio ancora no ragazzi non c'è da ridere su questo scusate parliamone no ci arrivo però c'è un passaggio parliamone sinceramente no e che cavolo e che venga a parlarne non sinceramente sono con te qui io ti sto dicendo con il massimo rispetto che ti debbo che su questa cosa stai prendendo una cantonata ma siccome non ti voglio convincere anche perché non è che no ma io voglio spiegami perché fammi finire hai parlato hai detto una cosa l'articolo del 2015 è un articolo di un altro mondo è esattamente quel mondo nel quale interviene il cambiamento di Vision 2030 dopodiché siccome io non è che faccio lo spot ad andare a visitare l'Arabia Saudita ti faccio un suggerimento ti do un suggerimento utilizzalo se vuoi invita qui due ex ambasciatori che sono stati nel 2015 nel 2020 2025 invita qui delle persone che sono degli italiani che vivono ora in Arabia Saudita e che ci vivevano 15 anni fa aspetta invita chi ti pare perché non voglio essere io chi conosce oggi l'Arabia Saudita dice che quell'articolo di 10 anni fa che pure fu criticato anche allora ma quell'articolo che raccontava una storia 10 anni fa oggi è totalmente un altro mondo però siccome questa è la mia parola contro la tua io mi limito a elencare i fatti negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha lanciato dei progetti che sono progetti avveniristici da tutti i punti di vista ma sono i diritti umani il tema non the line sui diritti umani ci arrivo abbiamo detto che è la parte sono molto incerto se rispondere punto punto perché penso che vi debba grande serietà e grande rispetto ma il grande rispetto significa dire che una cosa è dire sono i diritti umani altra cosa è dire l'articolo del 2015 perché l'articolo del 2015 racconta una storia che non è la storia dell'Arabia Saudita di oggi e su questo tema fate come volete pensatela come volete quello che io vi sto dicendo è una roba che se volete sperimentate voi o con qualcuno che sta lì io non ho più voglia di parlarne perché non è il mio obiettivo venire a raccontarvi di come stanno facendo grandi cose lì è chiaro? se si parla di diritti umani io ci sto ma se ne parla sempre dei diritti umani perché che in Arabia Saudita non ci sia il rispetto dei diritti umani come non c'è in Cina come non c'è ovviamente in Russia come non c'è in decine di altri paesi di cui non si parla è un tema altrettanto importante allora prima finiamo sull'Arabia Saudita sulla geopolitica e sul fatto che io ritengo Bin Salman l'unico in grado di portare alla pace in terra santa io ritengo che la vicenda del 7 ottobre parta perché Bin Salman aveva fatto l'accordo con Israele altro che stronzate come quello di quell'articolo se non partite dal presupposto di conoscere la politica estera questo è populismo vero il 7 ottobre accade un fatto enorme accade un fatto che Hamas pagata dagli iraniani che vedono l'accordo a portata di mano tra Riyadh e Tel Aviv che è un accordo storico perché se Bin Salman fa l'accordo con Netanyahu o con chiunque sarà il primo ministro di Israele fa un gesto enorme nella via della pace e il passaggio successivo è quello al quale io modestamente e umilmente sto cercando di lavorare della pace tra Riyadh e Vaticano che è il passaggio successivo questo ragionamento qui smentisce categoricamente tutte le cose che abbiamo detto nell'articolo del 2015 ma in che modo poi rimane il tema dei diritti umani Alessandro però devi dividiamo un attimo le cose se vediamo sui diritti umani ci arrivo però prima mi devi togliere dal campo l'aspetto geopolitico di quello che sta accadendo perché se parlate di queste cose dovete avere consapevolezza che sono cose su cui ci si gioca il futuro del mondo è chiaro? perché questo altrimenti gli UTI bombardavano l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita ha iniziato a bombardare il NIEMEN e tutta la stampa internazionale no ragazzi non è inutile ridere la stampa gli UTI bombardano le nostre navi nel Mar Rosso e meno male che la marina militare risponde agli attacchi dei droni degli UTI ma però sei sicuro che tutti loro questa cosa la sanno benissimo ma non mi sembra che tu sappia te su questo te lo dico con franchezza perché è giusto dirlo questa roba del 2015 non esiste parliamo dei diritti umani e diciamo i limiti che ci sono in l'Arabia Saudita e in altri paesi proviamo a fermarci un secondo proviamo a fermarci un secondo anzi guarda piglio anche un altro po' di Mirto che in l'Arabia Saudita non si può bene dividiamo le questioni ti dico io condivido la tua visione geopolitica la tua visione internazionale non mi piace il termine geopolitica la condivido cioè la pace in Medio Oriente passa da un riavvicinamento di Israele al mondo arabo al Vaticano sono d'accordissimo con te 1000% alle volte i paesi devono avere a che fare con delle realtà che non sono democratiche anche questo va bene non voglio fare l'anima bella in questo senso se domani Giorgia Meloni perché è la presidente del consiglio ma anche non lo so Peppino Bianchi prossimo presidente del consiglio va io non ho niente in contrario per carità non facciamo e possiamo dire che la democrazia purtroppo dove è stata sperimentata in quei paesi non ha funzionato perché sì sto dicendo una cosa violentissima questa sarebbe una cosa da fischiare ma è successo questo in Egitto sì vabbè aspetta non mette l'altra cosa aspetta un attimo ho capito ma queste sono le cose vere su cui finalmente con te si può discutere e quando si va in più hanno vinto i fratelli musulmani e questo ha creato un sacco di casini è giusto questo o no io sono democratico sincero sono di laniato no ma certo ma certo quindi questa visione ci sta io la condivido Giorgia Meloni va o Biden va parla con Bin Salman certo assolutamente due cose sono diverse la prima è che tu vai a parlare con Bin Salman non avendo incarichi di governo e quindi uno si chiede ma a che titolo stai andando tu a parlare a dire adesso gli faccio fare la pace col Papa complesso e poi perché c'è un tema di pragmatismo il Papa e Bin Salman alla badia fiesolana è il massimo augurarsi Buon Natale il secondo punto è i diritti umani nel senso e io su questo ci sto parliamo dei diritti umani ok hai anche del mio ruolo se vuoi perfetto però quello che mi interessava era togliere dal campo questo aspetto dell'articolo 15 andiamo su quello è interessantissimo sono molto contento diritti umani io non posso andarmene via di qua senza averti chiesto ma scusa Cascioggi cioè io quel momento in cui tu alla giornalista di non mi ricordo che forse non mi ricordo di dove era di che testata fosse dici ma chi l'ha detto quando ti diceva guarda che l'hanno detto gli americani che Cascioggi è stato fatto a pezzi perché criticava proprio Bin Salman cioè la CIA fa un documento che viene rilasciato nel gennaio del 2021 sì l'ho letto integralmente e dice io l'ho letto e poi l'ho fatto anche tradurre per avere la certezza che non stessi sbagliando così non vorrei fare è bravo ed è evidente che sulla vicenda specifica scrive le seguenti parole noi riteniamo che il regime di Riyadh non potesse non sapere quello che stava accadendo in Turchia vale a dire dice la CIA che un commando era incaricato di rapire un giornalista che aveva delle dinamiche come dire che non stiamo qui a raccontare nel dettaglio ma che possiamo definire una persona critica sì oppositrice insomma trovare le parole giuste nei confronti del regime di Riyadh questo è quello che scrive la CIA tanto che il regime di Riyadh fa un processo nel sistema giudiziario di Riyadh che non è come il sistema giudiziario italiano sul quale io ho molti limiti ma che è sicuramente migliore dei paesi non democratici e sappiamo come è andato a finire il mio ragionamento è sui due punti diritti umani e mio ruolo diritti umani è evidente che molti paesi non rispettano gli standard dei nostri diritti umani ci includo i paesi arabi direi nessuno escluso con toni diversi nessuno escluso ci includo la Cina ci includo alcuni paesi africani non tutti ma molti e credo che questo sia un elemento molto complesso da affrontare io una volta ho detto a Xi Jinping altro leader di un paese che non rispetta i diritti umani per come li consideriamo noi per me i diritti umani universali quindi non rispetta i diritti umani punto ma loro dicono noi non abbiamo la vostra visione democratic eravamo a Cagliari eravamo al Forte Village Xi Jinping decide di venire un mese prima del referendum in visita in Italia ora il fatto che il presidente cinese venga in visita in Italia all'improvviso è un po' strano di solito ci mettono mesi e mesi lui in realtà fa una sosta tecnica in un volo tra Pechino e Lima dove va a una conferenza americana asiatica e mi chiede se posso raggiungerlo siamo nel novembre del 2016 per stare a cena con lui lo dico perché ci eravamo visti due mesi prima al G20 tutto mi aspettavo tranne che questo io organizzo la cena organizzo la cena no il governo italiano e faccio il mio incontro di campagna referendaria a Cagliari e mi sposto a Forte Village siamo a cena io mia moglie il ministro degli esteri Gentiloni lui Xi Jinping sua moglie ministro degli esteri e poi un po' dei diplomatici perché vi racconto questa perché alla quarta bottiglia di Cannonau a proposito io gli dico scusa contradduttore quindi italo-cinese scusa amico ma posso farti una domanda un po' così ma lui è certo mi puoi dire quarta bottiglia di Cannonau la Cina quando inizierà ad avere i nostri standard democratici a rispettare i diritti umani come facciamo noi tu hai chiesto questa roba? ok sono molto interessato era la quarta bottiglia di Cannonau la Sardegna è magica in questa cosa e lui mi dice sei sicuro di questa domanda? sì e lui mi dice vedi io non so se noi arriveremo mai al vostro modello di democrazia o a quello che voi ritenete essere un modello di democrazia non dimenticate per chi ama la politica estera fatta sul serio che nel febbraio del 2022 Xi Jinping e Putin 20 giorni prima dell'invasione in Ucraina firmano un documento in cui dicono cos'è la democrazia per loro che i diritti umani non sono universali ma sono nazionali vabbè io non so se noi arriveremo mai al vostro modello di democrazia ma tu hai visto che è successo al tuo amico David Cameron sei mesi fa col referendum? io dico sì l'ho visto perso il referendum tu hai visto che è successo un mese fa alla candidata del tuo amico Barack Obama a Hillary Clinton nelle elezioni americane? sì l'ho visto e lì fa capire che sa qualcosa che io ancora non ho chiaro tu sai che tra due settimane c'hai un referendum dove potresti non vincere i sondaggi cinesi erano perfetti altro che i sondaggi italiani sapeva già che perdevo 60-40 e io gli dico sì lo so ecco allora io non so se noi arriveremo al vostro modello di democrazia ma tra 30 anni non so se ancora voi avrete lo stesso modello di democrazia che avete adesso guardate che questo argomento è incredibile per dire che c'è una parte del mondo che non ragiona con i nostri standard io me la tengo stretta la mia idea di democrazia io me la tengo stretta e non la penso come chi non condivide quel modello di democrazia ma quello che voglio dirti è che in un mondo di 8 miliardi di persone gli standard democratici e anche ahimè gli standard dei diritti umani non sono uguali dappertutto allora per me se tu ammazzi un giornalista ma anche se tu ammazzi un innocente non che un giornalista non sia innocente una qualsiasi persona se tu ammazzi un cittadino normale non innocente se tu ammazzi per me se tu ammazzi uno colpevole la pena di morte per me è ingiusta io non so quanti qui dentro sono per la pena di morte ma io so che oggi Stati Uniti Giappone e tanti altri paesi democratici hanno la pena di morte in questo modello culturale diverso non ho alcuna difficoltà così come ti dico che sbagli sulla geopolitica per me a dire quella cosa del 2015 ti dico certo che hai ragione te sul fatto che tanti paesi tra cui Riyadh tra cui Abu Dhabi tra cui Mettici Pechino ed altri non rispettano i diritti umani come li sappiamo noi non c'è dubbio alcuno non c'è dubbio alcuno che quei modelli democratici e di standard minimi di rispetto dei diritti umani sono diversi poi puoi vedere dei passi in avanti dei passi indietro a seconda dei singoli paesi puoi dire caspita stanno migliorando ma stanno migliorando partendo da un presupposto che è molto più indietro rispetto ai nostri livelli io su questo non ho mai detto mezza parola di diversità aggiungo e finisco sul mio ruolo perché vado lì però questo scusami sono interrotto se vuoi almeno che chiariamo sui diritti umani è evidente questi non rispettano i diritti umani come li conosciamo noi ma infatti questo è la palissiano la domanda è su di te allora perfetto abbiamo fatto anche questo sinceramente perché vai a fare il conferenziere là te lo spiego con molta chiarezza io sono premesso che sembra che vado a fare il conferenziere solo invece vado a tante altre parti quindi sono no ma per carità ma fai bene sono orgoglioso di quello che ho detto su quel paese quando ho parlato di rinascimento perché il rinascimento bisogna studiarlo per parlare di rinascimento ma non sei imbarazzo a prendere questi soldi no perché il rinascimento non lo conoscete se non sapete che è stato un periodo di lotte no fammi lo sgarbi cioè nel senso no 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 Alessandro fai il serio fai il serio no ma io sono molto serio scusami il rinascimento è stato un periodo di lotte truci il rinascimento non è stato un periodo in cui c'erano tre pittori che dipingevano la madonnina tutta per benino non è stato il momento in cui quello al giardino degli orti oricellari parlava di filosofia il rinascimento è stato un periodo di caos dove se le davano di santa ragione quello che sta accadendo nel mondo arabo è esattamente la stessa cosa con famiglie che si sono scannate con scontri tra sunniti e sciiti così come erano tra cattolici e protestanti nel quindicesimo secolo sei secoli fa e questo ragionamento però sta portando anche piaccia o non piaccia a una fioritura non questo nonostante questo c'è una fioritura artistica e culturale che soltanto chi non ci è mai stato non vede e però questo argomento quando io vedo la biblioteca di Doha per non parlare dell'Arabia Saudita ma posso parlarti tranquillamente delle iniziative culturali io ho visto i ragazzi sauditi quando hanno aperto il primo cinema voi siete abituati a pensare che il cinema sia una cosa scontata non ci va più nessuno quando hanno aperto il primo cinema per lì era festa nazionale allora il concetto è chiaro che non è un modello per i diritti umani ma è altrettanto chiaro che sta cambiando il mondo Matteo Renzi ascolta io ti dico sinceramente io se fossi in te e ti dico io condivido questa tua visione e poi tu condividi tutto alla fine non ci si diverte più ma io sarei in imbarazzo a farmi pagare da con quei soldi lì allora parliamoci ti dico cosa faccio io non lo farei guarda Alessandro ed è rispettabilissimo ti dico quali sono nel senso ti dico anche siccome è sempre molto facile dire io non lo farei quando nessuno te lo chiede visto che lo dicevi anche tu prima a me lo chiedono non mi chiedono di andare a fare il conferenziere perché chi mi conosce però mi chiedono che a te lo possano chiedere non ho dubbi che lo possano chiedere a Salvini permettimi di dubitare ma sono opinioni però quello che voglio dire è che sono opinioni aspetta arrivo a dirti quello che voglio dire è che a me è capitato io faccio tre cose e sono orgoglioso di farle uno sono nell'advisory board di Neom sai cos'è Neom? sì è quella città quel quartiere super tecnologico quartiere super tecnologico vabbè guardate non vi voglio convincere guardate cos'è Neom è un progetto incredibilmente avvineristico dove ci sono anche molte aziende italiane al lavoro ed è un quartiere dice Alessandro per me qualcosa di più dove si prova a rivoluzionare il concetto di città ci si farà non lo so non lo so però è un grandissimo progetto di straordinario fascino secondo mi hanno chiesto di stare nell'advisory board di Alula Alula è l'ultima città dell'impero romano nel senso è il confine più orientale della storia dell'impero romano ma una civiltà precedente prima dell'arrivo di Bin Salman nessuno valorizzava Alula perché aveva anche una presenza pre-profeta presenza romana e presenza ancora precedente le tombe di Alula sono simili a quelle di Petra non c'è quel sentiero bellissimo del tesoro che a Petra per chi c'è stato apre il cuore ma le tombe sono paradossalmente molte di più e più belle Alula è per me un pezzo del ragionamento dell'identità culturale ed è il motivo per il quale mi hanno chiesto di stare dentro perché avevo fatto un pezzo dopo il Bataclan dicendo un euro in cultura e un euro in sicurezza e in una delle mie conferenze dissi giù in Arabia voi non potete mettere i soldi soltanto sugli armamenti i soldi per un euro in sicurezza dovete mettere un euro in cultura esattamente come dissi dal presidente del consiglio e lo dico perché almeno torniamo sul rinascimento voi sapete che il momento costitutivo dell'inizio del rinascimento è la porta del Ghiberti le porte del paradiso si chiamano porte del paradiso quando Michelangelo vedendole qualche decennio dopo dice sono così belle che potrebbero essere le porte del paradiso ma questo capolavoro del Ghiberti le porte del Battistero i fiorentini le fanno con una storia meravigliosa mettono per le porte del Battistero di Ghiberti primo atto del rinascimento secondo gli storici dell'arte l'equivalente di quello che i fiorentini mettono sulla guerra sulla difesa dalle città nemiche un euro in cultura un euro in sicurezza e il terzo è l'FII che è il Future Investment Initiative che è un convegno annuale che si svolge a Riyadh ma che poi si svolge a Miami a Hong Kong a Rio de Janeiro e a Nairobi del governo o d'altro ma mi sono dimesso perché mi sembrava il minimo devo dire altri primi ministri l'hanno fatto dopo quello che mi colpisce tu hai mai fatto una domanda a Prodi sul perché lui andava in Kazakistan e chi ci ha mai parlato con Prodi chiamalo però allora compiti per casa Badia Fiesolana Riyadh Prodi vabbè poi dopo mi passi il numero però quello che ti sto dicendo tu ti sei di Bin Salman o di Prodi perché scegli se Bin Salman vuole venire qua dove io prima vai da lui tranquillo che torni indietro e ti riporto io vai tranquillo ok vabbè tu ti sei effettivamente dimesso da cos'è Delimobil si chiamavala è un'azienda di car sharing russa cioè inizia la guerra in Ucraina e tu ti metti e io questa cosa l'ho apprezzata sono sincero ma cavolo cioè per i russi sì e per i sauditi no te l'ho spiegato perché sono felicissimo di stare dentro a Lula sono felicissimo di stare dentro a Nio e sono felicissimo di stare dentro a Fiesolana ma magari anche con i russi però posso dirti una cosa io se vuoi se vuoi io la prossima volta vengo mi rinviti così li addormentiamo sulla repressione e porto le slide di Neom le slide di Lula però il concetto di fondo per me sul quale sono convinto fondamentalmente convinto è che nella scelta tra stare tra quelli che dicono scontro di civiltà e quelli che dicono no dividiamo tra gli estremisti e i riformisti perché la battaglia contro gli estremisti la devono fare i riformisti io sono orgoglioso di aver preso questa posizione e ti ripeto che se non c'è Bin Salman al tavolo non c'è la pace in Medio Oriente non è detto che si riesca a risolvere lo stesso ma lo scontro del 7 ottobre nasce contro il ruolo dell'arabia sanitaria allora perché hai detto a quella giornalista che non era vero cioè quando ti ha detto alla domanda della giornalista che mi dice la CIA ha detto questo questo e questo ti riferisci a Daniele Ranieri all'otto e mezzo benissimo io le ho detto ha letto il documento della CIA perché a me piace essere preciso vedete una delle cose fondamentali su questi temi è perché mi scaldo sul rinascimento che è una frase che uno potrebbe dire là ho detto un'idiozia no io sono proprio convinto di quello che ho detto perché è esattamente come il rinascimento è esattamente come il rinascimento per chi conosce il rinascimento è l'omicidio il documento il documento della CIA che è l'unico documento americano su questo non dice quello che dici tu o che dice lei dice che il regime non poteva non sapere che è una frase che francamente mi sembra abbastanza chiara Jake Sullivan che è il National Security Advisor e Bill Barnes il capo della CIA per dirne due ma potrei dirtene altri diecimila ma siccome mi parli di sicurezza e di CIA sono costantemente in rapporto con l'Arabia Saudita com'è sacrosanto che sia dopodiché non ho alcun problema a rispondere a tutte le domande sull'Arabia Saudita sono qui almeno da mezz'ora a parlare dell'Arabia Saudita ci resto quello che contesto è che questa perché è giusto che in un ambiente giornalistico ci siano domande e risposte cos'è che contesto contesto due cose non a te mi permetto di prendere spunto no a te non ti contesto nulla perché alla fine mi dà ragione su tutto è un casino allora il punto centrale uno vado dalla Gruber a parlare di pace e lei mi dice non mi interessa che lei mi parli di geopolitica mi parli del suo conto corrente allora io il mio conto corrente è l'unico conto corrente italiano reso pubblico violando l'articolo 6 8.4 del codice penale ma questo è secondario non ho niente da temere è tutto trasparente ma che mi si dica a un dirigente politico che viene a dire guardate per me per fare la pace al Medio Oriente da cui dipende la vostra vita quella dei vostri figli la sicurezza delle vostre città l'aspetto economico delle merci perché se noi non sistemiamo il Mar Rosso continuerà a crescere l'inflazione se di fronte a questo non mi viene consentito di parlare perché mi viene detto vogliamo sapere del tuo conto corrente io dico che questa è la negazione del giornalismo secondo punto secondo punto secondo punto perché su questo sono molto esplicito c'è un uomo che si chiama Giuseppe Conte che è venuto qui e che ti invito a invitare in un colpo perché lui è venuto qui e ha detto voglio fare un confronto con la Meloni ora o mi metto la parrucca bionda la giacca così e vengo io o chiedo io a Giuseppe Conte perché Giuseppe Conte in modo squallido meschino non ci dice perché ha chiamato i russi in piena pandemia con l'esercito russo a Bergamo non ci dice dove prendeva i soldi nella sua attività di avvocato non chiarisce le leggi ad hoc fatte per il suocero e viene a porre un tema etico a me senza avere il coraggio di guardarmi negli occhi a questa masnada di persone io dico venite a fare un confronto all'americana alla russa se preferisce Conte ma quello che è fondamentale io lezioni di dignità ed etica da Giuseppe Conte non le prendo e non le prenderò mai questo deve essere chiaro va bene e che cavolo rispondo su tutto io lui non è in grado di dire una parola su quello che ha fatto però tu diciamo vorresti sapere queste cose di dove il denaro la sua attività quindi sono domande lecite a me non sono domande sono risposte tu non vuoi che lo chiedano a te però lo si può chiedere non voglio che lo chiedano a me ma mi prendi per il naso apprezza no ma guarda sentiti libero no non voglio non ti dirò mai mi prendi per il culo ti dico mi prendi per il naso faccio una domanda ma c'è un altro politico a cui hanno preso hanno lo stesso PM ha arrestato la mamma ha arrestato il babbo indagato il cognato per uno scandalo a unicef che non esisteva e che per otto anni ha rovinato la vita a un ragazzo di 40 anni che aveva l'unica forto di aver sposato mia sorella errore forse ma comunque non reato hanno indagato mia sorella mia nonna c'ha 104 anni il PM l'ha lasciata perché era convinta morisse e quella rimane lì ora indagherà anche lei hanno perquisito i miei amici tutti i miei amici perquisiti presi i telefonini per dire dovevamo vedere se c'era la copia del bonifico vai in banca se vuoi vedere la copia del bonifico no hanno preso i telefonini per far cosa parole della Cassazione un inutile sacrificio dei diritti chiuse virgolette per avere una non consentita funzione esplorativa cioè per far cosa prendere il telefonino e vedere se avevano le amanti se avevano le altre cose hanno fatto una schifezza nei miei confronti senza paragone hanno pubblicato il mio conto corrente e ti dirai è giusto che un politico faccia vedere dove prende i soldi certo c'è la dichiarazione dei redditi la devi pubblicare a me non hanno pubblicato la parte delle entrate hanno preso il conto corrente in modo che la Cassazione ha definito illegittimo e hanno pubblicato le uscite e di quale dei due conti che ho non quello che ho intestato a mia moglie ma quello solo mio per far vedere tutte le mie uscite erano convinti di trovarci chissà che pensando che mia moglie potesse finalmente vedere per il penso che mia moglie non guarda nemmeno il suo di conto ma questo è un plan mio vi rendete conto che il livello di squallore è vedere le lettere con tuo padre pubblicate sui giornali dove io litigo con mio padre voi vi rendete conto che il livello di meschinità è trovare tutta la tua vita spiattellata in mezzo alla gente dopo che hai visto persino arrestate le persone a cui vuoi bene bene di fronte a tutto questo sapete cosa è rimasto zero condanne anzi no cinque sentenze della Cassazione che danno ragione a me e una sentenza della Corte Costituzionale ma cosa volete che me ne freghi se mi fanno una domanda ma cosa volete che mi interessi se mi fanno una domanda ma io vi guardo negli occhi tutti uno per uno vi prendo in faccia uno per uno a me lezioni di trasparenza il signor Conte non me le dà né Conte né Salvini né altri che cavolo porca miseria ma a parte diciamo gli aspetti intimi che fortunatamente visto il fisico questa risata però anche no fino a che lo dico io in realtà credo che su questo trovi tutti abbastanza d'accordo perché a parole a parole perché non vi è mai successo a voi e io vi auguro dal profondo del cuore che non vi succeda mai perché il telefonino ragazzi non è più il telefonino cosa vuol dire perché se non è a parole nel senso a me è molto dispiaciuto io penso che Alessandro la tua parabola lì abbia ricevuto un caspita ma voglio dire è un duro colpo alla fine non riuscivo cioè a parte non fermarsi più in autogrill per evidenti ragioni per cui mi è venuta la prostata perché non posso più fermarmi in bagno perché l'autogrill anche lì poi se vuoi ne parliamo ma quello che mi hanno fatto credetemi io ora lo dico scherzando sorrido eccetera ma è nel tempo dei big data o tu metti un limite alla possibilità per lo Stato di spiattellare tutto di una persona o tu distruggi le persone io ve l'ho detto all'inizio sono un uomo felice sono tranquillo mi diverto nella mia vita faccio le conferenze all'estero come forse sia vagamente intuito continuo a fare la mia vita regolare ma se avesse avuto un altro carattere io oggi non sarei qui perché il grado di oppressione che una cosa del genere ti dà pensare che quelli vicino a te perché stanno vicino a te possono essere perquisiti arrestati ma vi rendete conto cosa vuol dire spiegare a dieci nipoti che il nonno è stato arrestato per cosa dopo due settimane appena c'è il tribunale dell'esame no no scusate non importava l'arresto ma vi rendete conto cosa è privato tu cosa adesso è saltato fuori che ci sono due carabinieri indagati per aver in qualche modo cercato di sollevare il livello dell'inchiesta quella consi dalla quale condannati condannati in primo grado cosa ho detto indagati condannati hanno assolto mio padre anche questo ma vi sembra un mondo normale tu cosa provi verso di loro provi odio provi rabbia io provo una grande preoccupazione per ora può sembrare che faccia dimmi la cosa sono preoccupato per la tenuta del paese verso queste persone la tenuta del paese il 99% se ne frega finché non gli capita quindi non mi pare questo il problema del paese sono gli stipendi i salari queste robe di cui non parla più nessuno la Meloni l'altro giorno in senato mi ha detto no no ma va tutto bene il reddito delle famiglie cresce forse in Arabia Saudita ecco questo sì perché in Italia no il punto centrale di cui sono profondamente preoccupato è che non c'è più il limite del vero Trump ha detto una cosa una volta me la fece notare Obama in una conversazione poco prima dell'elezione mi disse ti rendi conto che Trump ha detto che lui potrebbe scendere dalla Trump Tower uccidere una persona risalire fare un messaggio su Twitter e dire ai suoi non l'ho ammazzato io e il 30% delle persone potrebbe credere a quella dei suoi elettori a quella versione lo ha detto Trump non c'è più il confine tra il vero e il virale ciò che è virale diventa vero e con l'intelligenza artificiale con l'utilizzo di quei dati tutto può essere messo in discussione la domanda su cos'è la verità per risalire al processo a Gesù Cristo è Ponzio Pilato che siamo nel tema qui dest veritas cos'è la verità è la grande domanda di tutti noi cos'è la verità io penso che questo sia il problema se tu puoi entrare nella vita di una persona e distruggerla con fake news cioè tu hai così ti becco un altro dei tuoi ospiti tu hai Marco Travaglio che va in trasmissione tutti i giorni o una volta ogni due giorni ma secondo me tutti i giorni ha un contratto con la 7 profumatamente stipendiato che va da una volta a settimana comunque troppo Marco Travaglio fermi no non voglio voglio dirvi perché è troppo perché non è perché non la pensa come me Masa non la pensa come me ma io sto discutendo tranquillamente con lui e lui sta discutendo tranquillamente con me e sta bevendo poco ma va bene anzi sta bevendo poco sono molto più avanti di te ma va anche lì e questa è una fake news il ragazzo si farà Marco Travaglio ha 14 condanne per difamazione no una è condanna penale e ha 13 condanne sì ma anche qui scusami tu sei un giornalista ma come fai a giustificare 13 condanne per difamazione o 12 o 11 cioè può succedere una volta no ho detto una stupidata scusa può succedere due volte in una carriera uno può prendere tre condanne per difamazione ma uno che prende condanne per difamazioni seriali io lo difendo perché a me l'ultima volta mi ha dato 98 mila euro e quindi io lo rispetto è il mio vitalizio ma vi rendete conto che tutte le sere o una volta alla settimana in tv c'è uno che ti spiega non in quanto soggetto politico ma in quanto giornalista che dovrebbe dire la verità uno che è chiaramente un uomo che dice menzogne perché se ti becchi più di 10 condanne per difamazione per me sei un menzognero lui l'odi no io lo rispetto perché mi dà un sacco di soldi dai guardate ragazzi io non odio questo forse è il mio problema non odio nessuno non odio nessuno ora non esageriamo qualcuno sicuramente ora ci devo pensare un po' ma non provo odio per il travaglio mi fa schifo il sistema per il quale uno fa il giornalista facendo il diffamatore e se questo non fa indignare voi non è un mio problema è un problema della qualità dell'informazione mi fanno schifo i politici che diventano opinionisti in tv perché tu devi fare il politico dire anche cose che non piacciono alla gente ma indicare una direzione io ho fatto industria 4.0 ho fatto i diritti civili da cattolico ho fatto il jobs act da uomo di centro-sinistra non dico di sinistra ho fatto delle riforme il terzo settore il dopo di noi la legge sull'autismo sono orgoglioso di quello che ho fatto ma non andavo a fare la trasmissione e a dire una volta contro vannacci perché c'è vannacci una volta contro la Fornero perché c'è la Fornero queste bolle mediatiche che vengono costruite perché il politico possa avere visibilità se cercate dei politici che vogliono la visibilità state cercando degli influencer e non dei leader e se cercate dei giornalisti che dicono menzogne contenti voi contenti tutti io non l'odio però questo sistema posso dire che per me è un sistema che fa schifo a me fa schifo bevo un po' d'acqua che se no ragazzi allora ne approfitto per dirti giusto una cosina così per alleggerire anche perché sono le 10 e mezzo per ora si è capito cosa intendo fare sull'Arabia Saudita sull'Europa facciamo la prossima facciamo così arriviamo all'Europa detti la linea io ti dico se tu mi fai oh Ursula se tu mi fai una mossa del cavallo una roba di palazzo e non mi fai rieleggere Ursula von der Leyen io divento pazzo io divento pazzo te lo dico non mi fare giochini e giochetti non non farmi ad impossibilia nemo tenetur però non mi fare però però noi all'Aleopold abbiamo detto che Ursula von der Leyen non era la persona adatta siamo stati i primi in Europa a dirlo grave errore perché tu sei per Ursula diventi pazzo per questo io ho grande fan ah non avevo capito io ho grande fan ma eri fan anche prima dei due bicchierini di Mirto o lo sei diventato dopo no no io ho da sempre fan ti dico le tre cose per cui secondo me Ursula ha fallito vai uno la parte diplomatica della politica estero-europea un disastro certo poi se mandi nei paesi arabi Luigi Di Maio vabbè ma che c'entra no che c'entra vabbè non c'entra ma andiamo Di Maio poi non si tocca a palla e fanno i cinesi strano però ma non l'ha deciso Ursula von der Leyen l'ha deciso Joseph Borrell ok sì allora leviamo Di Maio non ti volevo toccare sugli affetti più cari scherzi sì sì notoriamente notoriamente lo so lo so vengo allora leviamo a parte le battute se no andiamo più sulla sostanza uno l'Europa è un paese è un continente che conta sempre meno noi siamo più o meno il 6-7% della popolazione siamo il 25% del PIL siamo il 49% del welfare state nel mondo questi numeri vi dicono come se non abbiamo un'inversione demografica siamo finiti tra 20 anni la Nigeria da sola sarà più grande dell'intera Unione Europea il Congo passa da 130 a 200 milioni di abitanti nel giro di 6 anni da qui al 2030 l'Europa non fa figli che non è un programma per la serata voglio essere chiaro però è un dato di fatto l'Europa che non fa figli è un'Europa che ha alla propria guida una generazione di burocrati tra cui la tua amata Ursula sono dei burocrati che vengono bene sui social che fanno le foto fatte bene ma che non hanno una visione da qui ai prossimi 20 anni dell'Unione Europea Mitterrand era uno statista Helmut Kohl era uno statista Willy Brandt era uno statista Adenauer era uno statista De Gasperi era uno statista questi di ora no cosa fanno? sulla politica estera non toccano palla io sono per inviare le armi all'Ucraina ho votato a favore io ho votato a favore delle sanzioni alla Russia ma il giorno in cui ho detto questo dal 24 febbraio 2022 e non ho cambiato idea continuo a dire che serve un special envoy dell'Unione Europea per far parlare i due paesi nel conflitto come si fa a far parlare i due paesi in conflitto la diplomazia l'hanno inventata per questo cioè la diplomazia serve per quando c'è il conflitto quando non c'è il conflitto i diplomatici fanno i ricevimenti con le cartine quando c'è il conflitto serve qualcuno che sia in grado tant'è che continuano a parlarsi gli americani i cinesi i turchi fino al 7 ottobre gli israeliani hai detto benissimo perché poi effettivamente cosa ha fatto Ursula su questo? un disastro ma Ursula non c'entra niente non c'entra niente la Presidente dell'Unione Europea non c'entra niente è un casino fratello ma qui abbiamo detto che noi non siamo populisti quindi diciamo un attimo ho capito ma non siamo nemmeno dei burocrati cioè se questa non è capace non è capace dopo 5 anni il mio partito l'ha votata il mio partito l'ha votata Ursula perché è stata votata da socialisti Renew Popolari Grillini l'hanno votata tutti tranne la Meloni e Salvini sul tema della diplomazia è stato uno scandalo ma il problema è che allora il problema della burocrazia posso dirti gli altri due al volo come scritto il problema della burocrazia sappiamo che non è legato a Ursula von der Leyen perché se ne andasse lei il problema della burocrazia rimarrebbe l'Unione Europea è molto burocratica ma se sei un politico devi guidarla la burocrazia ecco perché io dico elezioni dirette del Presidente della Commissione di Ursula von der Leyen io sono per l'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea perché credo e due no ma guarda che su questo la pensiamo allo stesso modo sei un masaliano però il tema non ti dirò che sei un renziano perché chi è renziano fa una brutta fine no 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 infatti lasciamola così ma quello che ti sto dicendo è che sai benissimo meglio di me che l'Unione Europea ha dei problemi strutturali per cui non riesce ad esprimere un potere a livello internazionale non è von der Leyen ma è il punto è che se questa cosa non funziona si cambia se la rimetti continuerà a fare quello che ha fatto in questi cinque anni timbrare sembra che il Cozzalone nel film è una roba che prende e timbra ti dico gli altri due punti ok vai riforma delle istituzioni così colleghiamo io sono per elezione diretta il presidente della commissione 18 commissari e non 27 così che ci sia una turnazione superamento del diritto di veto creazione di una politica di difesa comune che porti all'esercito europeo io ho questo e che palle tutto tutto io sono fortemente europeista io queste cose le ho sempre dette siccome sono più vecchio sei renziano ora però siccome allora te la sei cercare alla prima ti passo alla seconda ti passo ma hai detto che non fai attacchi personali invece mi sembra che basta scherzare cucù immagini questo pezzo questo pezzo lo ritaglio e lo mando a travaglio il giorno dopo fatto quotidiano ti immagini Masala una promessa tradita del giornalismo vabbè ti guardano il conto corrente ti fanno tutto vabbè allora il secondo punto è il cambiamento delle regole e ti faccio un esempio concreto specifico puntuale nell'ultimo discorso dello Stato dell'Unione sapete che l'Unione Europea ha mutuato questa esperienza dagli Stati Uniti è meno affascinante il discorso dello Stato dell'Unione Europea ma lo fa e lo fa la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fatto un discorso che definire timido è riduttivo non ha detto una mazza sembrava una Dorotea degli anni 70 senza la statura dei Dorotei e in questo intervento che lei ha fatto ha abilmente glissato su tutti i punti fondamentali io faccio un esempio quel gentiluomo di Viktor Orban non più tardi di 15 giorni fa ha fatto una riunione dei suoi a Budapest e ha detto voglio marciare su Bruxelles meno male su Bruxelles ma comunque voglio marciare su Bruxelles per cambiare l'Unione Europea nel mio piccolo io gli ho risposto bene se vuoi cambiare l'Unione Europea smettiamo di darti tutti quei soldi che prendi dal contribuente italiano perché tu poi non rispetti lo Stato di diritto questo meccanismo per cui chi non rispetta lo Stato di diritto non prende i soldi ha un nome e cognome in Italia e ringrazio Ivan per la battaglia che sta facendo si chiama Ilaria Salis io sono contento che la Meloni abbia riportato a casa o stia per riportare a casa Chico Forti sono stato contento di aver riportato a casa Imarò io sono stato contento che i vari governi abbiano riportato a casa Silvia Baraldini ed altri ma anche Ilaria Salis va riportata a casa e il fatto che gli ungheresi non se ne occupino mi porta a dire bene non te ne occupi non prendi i miei soldi su questo tema Ursula non pervenuta terzo e ultimo punto il Green Deal ragazzi adesso parte a dire robe di destra perché io lo so cosa stai per dire di destra eh sì vedrai anche qui piano piano ad essere arrivato Prodi arrivano tutti su questa posizione arrivano tutti su questa posizione una cosa a essere per l'ambiente vi faccio un quesito voi sapete com'è il Green Deal viene presentato nel dicembre 2019 da Ursula von der Leyen e Franz Timbermans è un programma molto ambizioso per fare dell'Europa la guida della sostenibilità mettiamola così è talmente ideologico che non funziona perché perché se tu in nome dei principi ideologici ambientali arrivi a far chiudere aziende che perdono quote di mercato e che si trasferiscono in Cina e in India dove gli standard ambientali sono molto più bassi dell'Europa la conseguenza è che hai perso posti di lavoro in Europa e il pianeta è più inquinato perché quelle aziende che fabbricavano in Europa adesso fabbricano in India e in Cina però non funziona così purtroppo non funziona tanto è vero no non funziona così non funziona è andata così in questi anni l'idea dell'Unione Europea è noi mettiamo questi standard e poi mettiamo all'ingresso delle merci dei paesi inquinanti delle tariffe ha funzionato? domanda Alessandro 2022 perché bisogna essere onesti io ti seguo no no guardiamo i numeri decarbonizzazione è la grande parola magica giusto? siamo d'accordo su questo 2030 no ma va bene ho capito parte del 2019 da qui al 2030 c'è nel mezzo 20, 21, 22 benissimo prendiamo il 22 che sono gli ultimi dati che ho visto ora appena c'è quelli del 23 fai diamo quelli del 23 decarbonizzazione gli Stati Uniti senza sguardo ideologico decarbonizzano per il 10% cioè riducono l'utilizzo di carbone del 10% bene? bravi Stati Uniti quanto riduce l'Unione Europea nel 2022? dimmi sapete quanto? aumenta del 7% perché? perché l'ideologismo ambientalista fa male ma cosa? non ho capito la connessione cosa c'entro? Casper ti faccio un disegnino è semplice il meccanismo è se tu in nome di principi ideologici ambientalisti arrivi al paradosso che produci più carbone e non ottieni i risultati che ti eri prefisso con i tuoi standard vuol dire che il meccanismo non funziona non ce l'ho con te ce l'ho col fatto che questo schema non funziona possiamo dire che il meccanismo ideologico che ha portato una parte della commissione guidata da Ursula von der Leyen fa chiudere delle aziende in Italia e non risolve il problema ambientale si risolve il problema ambientale come? con uno sforzo sulla tecnologia sull'innovazione eh no io credo no no io sto cercando di capire ma sei d'accordo su questo? no io non ho capito ma in che modo in che modo questo avrebbe aumentato le emissioni? che cosa ha aumentato le emissioni? allora l'Unione Europea si dà degli standard questi standard in teoria devono portare alla decarbonizzazione questo è l'obiettivo del Green Deal cioè il Green Deal dice se noi facciamo tutte queste cose sì soffrirete un po' cari amici cari cittadini europei perché giustamente la sostenibilità è una sfida importante e il prezzo che dobbiamo pagare con l'aumento dei costi e anche con qualche posto di lavoro in meno vale il gioco di comunque migliorare la vita nel pianeta questo è l'obiettivo se il risultato che puoi vedere è il numerino dell'emissione di carbone ma potrei farti altri esempi con similari obiettivi la decarbonizzazione è il più importante ti dico la decarbonizzazione perché è quello più evidente e più importante se alla fine di questo percorso io utilizzo più carbone vuol dire che inquino di più facciamo il nucleare io favorevolissimo chi è che ha chiuso il nucleare la Germania quando ha chiuso il nucleare la Germania dopo lo tsunami in Giappone e quando è che hanno chiuso le ultime centrali nucleari Scholz perché la decisione di Angela Merkel mi pare di ricordare nel 2013 potrebbe essere il 12 non voglio essere impreciso ma mi pare che sia tra il 12 e il 13 le ultime centrali nucleari di vecchia generazione che funzionavano in Germania Scholz se le ha chiuse già dopo la guerra in Ucraina perché come funzionava il modello di business della Germania anche qui quanto sarebbe interessante stare a discutere la Germania aveva tre grandi concetti export in Cina energia dalla Russia sicurezza militare dagli Stati Uniti questi tre sono venuti meno tutti e tre la Cina ha smesso di comprare le macchine perché grazie all'operazione delle auto elettriche siamo noi che andiamo a prendere almeno una parte dei diciamo la supply chain la filiera in parte in larga parte con la guerra in Russia giustamente abbiamo rotto i rapporti con la Russia e quindi l'energia non viene più a prezzi scontati per l'azienda tedesca dalla Russia e gli Stati Uniti c'è qui l'elefante nella stanza che si chiama Donald Trump che dice se vinco io quei paesi che non mettono il 2% sulla Nato incoraggio Putin ad invaderli e tutto questo è colpa di Ursula von der Leyen e dai via nel senso perché Alessandro sei meglio di così dai via fai bravo giù dai abbi fiducia in te stesso fai anche delle cose più perché ti sto dimostrando che stiamo parlando di argomenti così grandi e complessi che che ci hai messo una che non è capace di affrontarli quindi come al solito per la quarta volta stiamo d'accordo e bevi perché stiamo d'accordo anche su questo sta diventando una roba e dai ragazzi è così mettine un'altra prova un leader io credo ma che ti ha fatto perché sei innamorato di Ursula raccontami perché credo che abbia rappresentato al meglio la commissione cioè la figura della commissione ecco su questo abbiamo proprio un'opinione diversa io la ritengo una burocrati però cioè nel senso la burocrati l'ho vista una bravaissima donna l'ho vista al Bilderberg peraltro sai chi è il partito che ce l'aveva con la burocrazia in Italia perché adesso non mi viene che diceva i burocrati li mandiamo a casa dimmi un partito che era a favore della burocrazia e cambi opinione dimmi uno che è a favore della burocrazia dimmelo io ancora non ho fondato nessun partito tu stai a favore della burocrazia nessuno è a favore della burocrazia penso che potrai essere nei sondaggi peggio di me che non è facile vabbè comunque non mi fa fuori verso la fondazione ci proverò fino alla fine credo di non riuscire a farcela da solo come è successo con Conte mi basta il successo alla carriera di Conte con Draghi però anche allora nessuno mi considerava in grado di farlo stavolta ce li provo soddisfazione se va in porto si fa una bevuta di mirto sulla terrazzina della badia fiesolana vai io ormai ma di Europa si parla oppure no magari diciamo tardi no 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 vedo laggiù c'erano 4 o 5 dormivano però russavano piano in realtà io volevo chiederti un altro po' di cose però vai vai ti seguo cerco di rispondere più veloce ok ti sei ingarellata sull'Arabia Saudita perché quello mi interessa tanto l'avevo intuito mai può essere che lì no non ripartire ti prego mi manca solo tu mi chiedi quante sono le province dell'Arabia Saudita c'è Jeddah Riad Tobruk non so Tobruk no Tobruk è difficile il tuo ruolo cioè il tuo aspetto più umano diciamo un po' come fai tu con Bin Salman insomma quel tipo di c'è c'è una l'avevi preparata talmente bene che ti posso perdonare questi calzini indecenti che hai e che non mi metterei mai di fronte a Bin Salman vi fate un applausometro per i calzini per capire il popolo è con me il popolo è con me un populista vi direbbe che bravi che bel pubblico io vi dico siete irrecuperabili se applaudite persino i calzini vi merita che vi aumenti i biglietti per la prossima volta spero che vi aumenti i biglietti e verrete a guardare i calzini e metterò la paperella vai vai con i calzini c'è un aspetto di te che emerge nel libro che secondo me in pochi conoscono che è un'attenzione che hai nei confronti del tema dei problemi sto iniziando a subire il mirto ma te lo dico sto iniziando a questo punto finisco a livello quando lo vedi in difficoltà è il momento di attaccare è così mi dai questo consiglio secondo me tu stai soffrendo molto più il calzino che il mirto però va bene e questo applauso indecente il flamingo è il simbolo di Cagliari non mi viene mai il nome del sì ma non trovo nessun cagliaritano a parte te che si rimette questi calzini perché ci vuole coraggio nella vita bisogna il confine sottile tra coraggio e indecenza non le affrontiamo la prossima volta vai andiamo su cos'è questa la chiamerei ossessione ma te lo sto dicendo in modo buono per le intolleranze alimentari problemi alimentari nei giovani cioè tu c'è questa cosa qua io sono sconvolto dal fatto che non se ne parli noi parliamo di tutte robe che non servono a niente o quasi nel dibattito politico decreto rave party dibattito su le visioni di Salvini e Meloni sul POS che poi non dà alcuna concretezza di risultato perché la legge non cambia quante ogni volta che c'è un fatto di cronaca c'è uno che propone un decreto legge hanno fatto il decreto Ferragni e poi il premio Igino Massari cioè stanno dietro a delle cose che sono secondarie per esempio sulla vicenda Ferragni c'era già la legge del terzo settore che regolava quella vicenda e invece ci sono 1.700.000 nuovi casi nel 2023 di anoressia e bulimia erano 673.000 i nuovi casi nel 2019 1.700.000 nel 2023 e la politica se ne frega quest'anno hanno tolto il fondo finché non abbiamo fatto un casino incredibile noi hanno rimesso 10 milioni è stato bravo Schillaci a rimettere 10 milioni sono solo 128 centri che si occupano di queste questioni io da padre zio amico di famiglia vedo tantissime persone che hanno problemi crescenti di rapporto col cibo tu ne hai avuto non personalmente e non i miei figli ma in casa diciamo tante sono le vicende di cui potrei parlare che naturalmente riguardano me come tanti altri secondo me questa è una cosa grossa è una cosa di cui non si occupa nessuno intanto io vorrei dire ai genitori che si mettono a piangere quando vedono una situazione del genere che si può uscire da una cosa del genere vorrei dire ai ragazzi di continuare a credere che è un problema grande grosso ma che si può affrontare si può risolvere però vorrei dire anche ai politici ma se noi non ci occupiamo di un milione e settecentomila ragazzi che fanno sta roba qua ma di che cosa parliamo noi in Parlamento se non parliamo di questo se noi se su questi temi io non riesco mai a aprire bocca e sono un ex presidente del consiglio e ho fatto delle cose in che senso non riesci ad aprire bocca io se vado in trasmissioni televisive devo parlare di tutte le province dell'Arabia Saudita ma non posso parlare di anoressia e bulimia io devo parlare del mio conto corrente ma non posso parlare di anoressia e bulimia e questo è un tema che io collego magari adesso litighiamo anche alla pandemia perché non è immaginabile l'aumento che c'è stato tra il 19 e il 23 senza un riferimento alla chiusura delle scuole e siccome durante la chiusura delle scuole contro tutti ho toccato il mio minimo storico di consenso ho detto che le scuole dovevano essere riaperte per prime e ho preso gli insulti di tutti un giornalista a Sallusti ha detto ci mandi sua moglie è insegnante se riapriva le scuole ci andava lei ci mandi i suoi figli vanno al liceo se riapro le scuole ci vanno loro ma io proponevo di riaprire le scuole perché pensavo che i temi legati più in generale alla salute mentale quindi non tanto e non solo alle vicende dei disturbi alimentari è uno dei temi che diventerà sempre più decisivo nel futuro la sanità è la grande questione dei prossimi anni e la salute mentale è un pezzo di questo ragionamento e io non perdono a Giuseppe Conte a Giorgia Meloni a Matteo Salvini di aver detto di no al MES sanitario 37 miliardi buttati letteralmente via per un furore ideologico di Conte Meloni e Salvini che fa del male al paese e alla sanità del nostro paese non perdonerò mai alla classe politica di non considerare che l'apertura delle scuole non è l'apertura di un servizio secondario è l'apertura del servizio fondamentale perché se tu chiudi le scuole chiudi una generazione di fronte al proprio iPhone di fronte al proprio computer è totalmente priva di relazioni e questa roba è possibile che la diciamo solo noi ma è possibile che questa cosa non vi sconquassi il cuore è molto più che tutte le discussioni di cui abbiamo parlato stasera per me questi sono gli argomenti per cui continuo a far politica sono le questioni reali il fatto che tra poco noi potremo avere una nuova pandemia gradita la mancanza di gesti apotropaici in pubblico da parte dei maschietti ma una nuova pandemia che potrebbe arrivare sulla resistenza dagli antibiotici avevo fatto un progetto con Rino Rappuoli a Siena non ne parla più nessuno perché il governo l'ha bloccato e l'ha bloccato il governo perché lo vogliono portare non a Siena ma da un'altra parte la resistenza agli antibiotici vuol dire che chi come me ha 50 anni ha 70 anni rischia di tirare il calzino perché non avremo più la possibilità di rispondere alle cure antibiotiche queste cose sono importanti ragazzi sono molto più io sono un fan dell'artificial intelligence sono un fan la mia storia è sempre una storia di futuro io sono entusiasta del futuro l'intelligenza artificiale è una grande opportunità tutti i racconti sono tutti negativi dell'intelligenza artificiale ma nella medicina può portare a risolvere i problemi ad esempio di alcune forme tumorali di alcune forme di malattie rare questa roba qua è cruciale che venga affrontata e che l'Europa e l'Italia siano i luoghi dell'innovazione invece noi abbiamo un sistema in cui l'Europa è tutta ranicchiata su se stessa non se ne parla più noi regoliamo l'intelligenza artificiale fedeli al principio per cui gli Stati Uniti inventano la Cina copia l'Europa regola l'Europa protegge anche però è la verità nel senso ma cosa protegge l'Europa oggi cosa io sono un europeista più di te ma cosa protegge oggi l'Europa sui temi della medicina e della sanità se quando facciamo degli hub di ricerca i nostri ragazzi se ne vanno e vanno all'estero io non credo che il problema dell'Italia sia l'immigrazione il problema dell'Italia è l'immigrazione sono dieci anni che ci fanno una capatanta con l'immigrazione è l'immigrazione il problema guardate i numeri non ne parla nessuno dei numeri il numero massimo di arrivi è stato 180.000 col mio governo 150.000 nel 2015 157.000 nel 2023 con la Merone ma perché dici che non ne parla nessuno perché non ne parla nessuno ma se ne parla continuamente perché siamo arrivati alle 11 a parlare anche con te che pure è una cosa seria con te noi stiamo parlando da due ore e dieci ma sono temi siamo arrivati alla seconda ora e dieci raga quante volte parliamo di questi argomenti cioè perché con te sono bravo tu sei bravo a parlarne allora con me quando faccio un dibattito politico con Giuseppe Conte gli stessi non ne posso parlare con Giorgio Amelone non ne posso parlare con Matteo S... vabbè allora non esageriamo allora rispondi a una cosa che perché hai pensato che non sarei stato d'accordo con te hai detto forse litighiamo ma litighiamo sul fatto che la pandemia secondo me è stata affrontata io voglio la commissione d'inchiesta sul covid ah perché perché secondo me se domani succede io voglio capire se la chiusura delle scuole è stata giusta o no io voglio capire se chiamare l'esercito russo è stato giusto o no te ne dico una cosa da te che sei una persona che ha capito l'importanza delle nuove forme di comunicazione l'ho scritta nel libro anche questa non se la considera nessuno ma avendo tu purtroppo per te letto il libro l'hai sicuramente letta cosa ha fatto in quel periodo il governo in quel periodo il governo ha fatto delle comunicazioni emergenziali giusto avevano chiuso tutti in casa era normale dover comunicare che cosa sarebbe accaduto e io trovo abbastanza giusto che fosse il presidente del consiglio a parlare nel caso di specie il presidente del consiglio ha parlato una quindicina di volte Macron 3 Johnson 2 anche perché manca poco va il creatore persino Trump ha parlato meno di Conte però diciamo ha parlato quindici volte va bene cosa faceva Conte metteva le dirette sulla sua pagina personale www.facebook.com Giuseppe Conte 64 l'ho studiata perché metteva sulla sua pagina personale perché adesso nel tempo dei big data sono tutti i dati che lui ha cioè tutti quelli che seguivano quelle dirette che interagivano con quelle dirette se avessero seguito non è che fossero tutti fan io lo seguo Giuseppe Conte ma è proprio questo il punto se tu hai una comunicazione istituzionale vai sulla pagina del governo perché se tu vai sulla tua pagina personale quei dati li utilizzi lo dico qui perché in questa platea probabilmente si può capire meglio che da altre parti quanto l'utilizzo dei dati oggi sia cruciale davvero i dati sono la nuova miniera però il fatto che tu mi critichi questo personalismo della politica che sia proprio tu a farlo un po' mi colpisce ma attenzione io non ho mai fatto dichiarare fermati se io avessi fatto la gestione del covid con in sovraimpressione il tg1 che ho scritto seguimi su www.matteorenzi.it oppure sul mio canale whatsapp al quale potete tranquillamente iscrivervi anche adesso se io avessi fatto questo avrei capito la tua critica no lo dico perché sono a 32.000 devo superare Salvini a 34.000 fate un'opera di usilità quindi io non sono uno che non si preoccupa di ste robe non sono uno che non si preoccupa di ste robe ma trovo doveroso avere un rispetto delle regole che è mancato durante la pandemia direte non sono queste le cose importanti sì e no le prime dieci aziende di quotazioni al mondo a parte Saudi Aramco che è la seconda sono quasi tutte legate ai dati dell'artificial intelligence all'information technology all'innovazione capisci che questo è un passaggio molto importante è la miniera di domani e io vorrei che l'Italia fosse il paese nel quale ospitiamo dei luoghi in cui si guarda più avanti degli altri quando abbiamo fatto l'expo ragazzi lo dico a Milano noi abbiamo fatto l'expo contro tutti non ce la volevano far fare perché c'erano uno di scandali abbiamo fatto l'expo e l'expo è stato il luogo nel quale abbiamo creato un hub il diciamo nel quartiere dell'expo dove proviamo a immaginare come cambierà il mondo della sanità il mondo della sostenibilità nei prossimi decenni io sogno questo per l'Italia un paese che non vive soltanto di ricordi ma prova a innovare prova a cambiare questo abbiamo cercato di fare certo parlare di intelligenza artificiale e poi ragionare di Toninelli o di Di Maio è un problema ma il tema dell'intelligenza artificiale del futuro è il core business dell'Italia di domani per me e per questo io sogno ragazzi che vengano a studiare qua io sono per dare la cittadinanza a chi fa un ciclo di studi qua io sono perché chi viene a studiare all'università qua abbia la possibilità di avere un salario di ingresso diverso tutti a parlare del salario minimo ma un ragazzo di 25 anni laureato ce la fa a vivere a Milano? ma un ragazzo di 25 anni laureato è chiaro che poi va in Svizzera a lavorare ma perché di queste cose non si può parlare e si può parlare soltanto del reddito di cittadinanza truffa organizzata a servizio di una sì sì oh no sì Matteo ti prego io pensavo che se vuoi fare stavo per dirti io sono d'accordo con te sull'Expo io sono d'accordo con tante cose che il tuo governo ha fatto io l'ho sempre detto in tempi non sospetti andate a guardare i miei video cringiate forte però sono cose che a me è piaciuto tanto la riforma del terzo settore molto bene dopo di noi 80 euro io fan dopo di noi il dopo di noi autismo assolutamente la legge sull'autismo la legge sul caporalato vada avanti la legge sullo spreco alimentare sì o no ah è così funziona è cambiato ho preso il controllo della trasmissione oh no Jobs Act sì se io sono a favore del Jobs Act Industria 4.0 immagino come? Industria 4.0 e l'ho detto Ellie Schlein peraltro in qua non eravamo in questo teatro però glielo ho detto ma anche Ellie è d'accordo è che non l'ha letta quella legge però se l'avessi letta sarebbe stata d'accordo anche l'Egg però sul reddito di Schlein scusa sto sbiascicando fermo avevo sede e mi avete dissetato e come dice Travaglio avevo fame mi avete diffamato si è messo agli atti che lui si è mangiato la pizza in camerino io non ho mangiato niente lo dico ai miei avi sardi che mi guardano con disapprovazione comunque possiamo anche andare a letto avendo delle cose in disaccordo adesso ti faccio una serie di domande flash non ho capito se sei vabbè il reddito di cittadinanza mettiamo a verbale il reddito di cittadinanza bisogna welfare cioè aiutare persone il reddito di inclusione hanno detto ho fatto il reddito di cittadinanza ma è possibile che tu racconti che il reddito di cittadinanza ti toglie dalla povertà il reddito di cittadinanza ti costringe a restare in povertà con 400 euro al mese Esther Duflo vince il premio Nobel per l'economia nel 2017 e dice che per combattere la povertà ci vuole una sanità degna di questo nome una scuola degna di questo nome un lavoro ben pagato non un sussidio regalato in alcune regioni d'Italia dalla Camorra dai pauso e va bene via 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 però però diciamoci la verità perché io il reddito di inclusione funzionava ed è nostro io ho un'altra mia ossessione che sono i quartieri degradati perché ho conosciuto te lo ricordi il piano periferie? Renzo Piano 2016 chi l'ha fatto il piano periferie? no come no? facciamo un attimo facciamo un attimo io le periferie le ho frequentate parecchio cioè ho un background personale che mi ha fatto io ho fatto il sindaco le periferie che abbiamo ristrutturato noi portandoci le biblioteche i centri culturali i centri sportivi va bene ok ti assicuro che nelle periferie è un po' diverso il discorso tu dici abbiamo fatto un miliardo di euro con Renzo Piano no ma non è che ti sto dicendo che le abbiamo rimesse a posto ma il primo governo che ha fatto il piano periferie l'abbiamo fatto noi con un signore che si chiamava Renzo Piano ora non fidatevi di Renzi ma di Renzo sì però quello che ti sto dicendo è che nella società esiste una fetta di popolazione che è difficilmente impiegabile dopo una certa età che ha bisogno di aiuto questo è con 400 euro al mese non li stai aiutando li stai distruggendo e c'è 0 euro al mese no quella popolazione lì peraltro con l'aumento dell'età allora intanto si sta aumentando l'età media no? giustamente sì che non è granché ma come diceva Woody Allen è sempre meglio che l'alternativa invecchiare non è granché ma è meglio l'alternativa si aumenta l'età media che cosa significa? significa che c'hai i settantenni di oggi sono più giovani dei settantenni di oggi no ma se non sono d'accordo io nel libro scrivo io nel libro scrivo bisogna fare le start up viva la Fornero va bene tutto però c'è una parte di popolazione che se tu non l'aiuti crea dei problemi ma l'aiuto non può essere io sono d'accordo che deve essere l'aiuto e deve essere il compito della politica rimuovere le diseguaglianze contesto il metodo che porta Giuseppe Conte a fare le ola ondate di consenso oh papà do reddito vi ricordate quei video li avete visti oppure li ho visti solo io non è che sono illusioni ottiche quel metodo lì è un metodo che ricorda il voto di scambio non che ricorda l'aiuto e il sostegno ma no ma no è quello che si diceva degli 80 euro aiuta il terzo settore vabbè dai su questo non ci si fa io fan non abbiamo più un mirto io fan io fan fan in tempi non sospetti degli 80 euro magari non li avrei chiamati gli 80 euro di Renzi che era un po' così però ma io non mi chiamavo 80 euro di Renzi è diventata quella roba lì ma era tutto di Renzi vuoi dire una cosa non so facciamo tempo forse di Renzi non era di Renzi era tutto di Renzi però nelle buste paga c'era scritto proprio bonus Renzi no bonus Renzi allora anche questa è stata meravigliosa da imprenditore no è stato scritto in un in un caso al comune di Prato al comune di Prato il 20 prima delle elezioni del 25 maggio o qualcosa del genere il 2014 misero bonus Renzi c'era nelle buste paga ma le buste paga non dipendono mica dal governo ragazzi però c'era scritto tra parentesi bonus Renzi e dici cavolo basta che non ci fosse scritto Renzi bono e poi va bene vai avanti abbiamo poco tempo hai finito il mirto e bisogna andare via hai bisogna andare via sì le ultime domande rapide facciamo domande rapide dai però mi devi rispondere rapido ora vediamo intanto fai le domande ok perché hai cambiato idea sul ponte sullo stretto non ho mai cambiato idea ho sempre detto che prima andavano fatti i lavori per le ferrovie e poi bisognava fare il ponte sullo stretto e adesso è tutto a posto con le ferrovie no è che nel 2015 ho dato alla regione siciliana con un accordo firmato aggrigento 9 miliardi di euro poi il fatto che la regione siciliana li abbia ancora da spendere rispetto al 2015 forse dal 2016 fate fact checking ma io gli ho dato 9 miliardi di euro per sistemare le fogne i depuratori 9 miliardi di euro quindi dopo che gli ho dato 9 miliardi ho detto ora si può fare il ponte sullo stretto fatta risposta ma nel frattempo nel senso fare questo ponte sullo stretto uno poi non riesce ad arrivare da nessuna parte stai tranquillo che prima che facciano il ponte sullo stretto spero che finisca i 9 miliardi da spendere ma se mi domandi se la domanda è perché hai cambiato idea non ho cambiato idea ho detto prima si spende in Sicilia e poi si fa il ponte sullo stretto peraltro abbiamo portato l'alta velocità che non è quella del nord a Reggio Calabria abbiamo fatto il progetto per la Napoli-Bari quindi su questo tema sono preparato l'associo alle cuffie vai tranquillo quindi una volta che ci sarà il ponte sullo stretto diciamo che il problema è il ponte sullo stretto io sono per farlo sono per farlo non la considero diciamo la cosa più immediata ecco purtroppo allora ma perché quei soldi invece non investirli nel senso ci sono già i soldi per investirli in Sicilia ma sono pochi nel senso ma come sono pochi i 9 miliardi sono talmente pochi che non li stanno spendendo noi abbiamo un problema di classe dirigente che non spende i soldi e quindi facciamo fare il ponte sullo stretto poi io scusate ma io ho fatto il sindaco quindi quando si entra su questi argomenti vi rompo le balle più che sulle questioni geopolitiche allora unità di missione sul dissesto idrogeologico più ti arrabbi più vedi avanti nella sede scusa questa cosa l'ho notata stella sera perché Lilly Gruber in questo momento è presente si siede avvicina così e che attenti si vede più calzini torniamo indietro non voglio vedere calzini vabbè vabbè dai allora unità di missione sul dissesto idrogeologico una clamorosa vergognosa scelta del governo Conte con un genio chiamato Costa ministro dell'ambiente governo Conte Salvini che fa una diretta da Palazzo Chigi abbiamo fatto la storia abbiamo chiuso l'unità di missione per il dissesto idrogeologico bravi bravi geni hanno chiuso e hanno buttato via delle occasioni di sistemazione dei nostri veticoli idraulici dei nostri fiumi ecco io su questi temi impazzisco siamo pieni di risorse che non spendiamo e mettiamo i soldi del PNRR ora non voglio fermare lì ma per rimettere in moto il CNEL articolo 10 del decreto ma adesso nel senso ho capito ma se smetti i soldi del PNRR per il CNEL io vengo qui sulla seggio da quanto mi incazzi qui vengo te ne rendi conto o no? però rimaniamo con questo Ponte sullo stretto che quindi va costruito tu sei da cosa Ponte sì CNEL no vai sicuro non ho mai cambiato idea su questo ok perché fai il piede così? sto cercando di mostrare dai sei invidioso dillo la dimostrazione che questo paese è finito sono i vostri urletti quando gli vedete la caviglia mi dovreste vergognare uomo più sexy d'Italia tra l'altro c'è un sito che lo dice tra l'altro ti informo poi cercano dopo lo vediamo assieme fact checking qual è questo sito? com'è raga? shy uomo più sexy punto it no 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 il sito questi vanno chiusi per con calma qual è il sito? shy uomo più sexy punto it e chi l'ha fatto tuo cugino? l'ho fatto io uomo più sexy una cosa per la quale comunque ti vedo provato dal mirtu ed era una cosa che non immaginavo vai sulle domande una cosa per la quale io posso dire di stimarti sono serio aver fatto la legge sulle unioni civili perché senza di te noi non avremmo una legge sulle unioni civili non solo è una cosa molto positiva fu fatta in delle condizioni complesse con Alfano delle resistenze molto forti sai che cosa fece Di Maio quella mattina io sono come si è vagamente intuito cattolico apostolico romano però un cardinale telefonò la mattina a Gigi Di Maio che ci aveva garantito che avrebbe votato vedo Roberto Kociancic che era in aula ovviamente Ivan che ha collaborato alla scrittura dal primo giorno l'applauso a Ivan Scalfarotto così a caso ma sì perché no l'applauso non va affatto a Ivan Scalfarotto l'applauso di solidarietà l'ha fatto a Federico che gli è toccato sposarsi Ivan poveretto povero Federico questo è il problema cioè Federico che è lì il marito di Ivan con questa legge possiamo fare un applauso a tutti però dai facciamo facciamo la fine io non ho chiesto l'applauso per Federico ho chiesto la solidarietà per questo povero uomo che ha sposato Scalfarotto comunque dicevo al di là della questione quella mattina un cardinale chiamò Di Maio e i Cinque Stelle cambiarono posizione io da cattolico apostolico romano ho avuto la manifestazione al Circo Massimo di Gandolfini in cocco con un ostricione così Torrenzi ci ricorderemo vago sapore di maledizione biblica però sono contento di averla fatta così come difendo con grande orgoglio il tema delle mie battaglie sull'educazione sulla cancelcata sulle cose su cui non sei d'accordo sono per il terzo settore la mia anima Boy Scout mamma mia te non reggi Mirto però non ci si diverge dà un altro di Mirto è successo altre volte ed è finita male se tornassi al governo faresti qualcosa per l'equiparazione degli unioni civili al matrimonio su questo con Scalfarotto discutiamo perché lui giustamente l'altro giorno ha fatto un'uscita dopo che in Grecia hanno persino la Grecia di Kiriakou Mitsotakis ha approvato è chiaro che allora fu considerato una via di mezzo ti racconto una piccola cosa perché non voglio farla troppo lunga ma quando ci fu da scegliere li mollammo sulle step child adoption sulla step child adoption e mollammo perché non c'erano i numeri già la legge sull'unione civile è passata col voto decisivo di Verdini e tu ci hai messo la fiducia ci hai messo la fiducia perché sennò non passava abbiamo rischiato di andare a casa a me questo giochino di dire o passo vado a casa mi è riuscito sempre tranne perché io lo dissi quando ero sindaco dissi qui o faccio il sindaco il pesante provincia o faccio il sindaco vado a casa poi da sindaco governo poi governo poi le leggi la legge di riforma così poi arrivato il referendum la statistica non è la tua materia preferita non è la mia materia preferita comunque per farla breve è chiaro che questo tema c'è io credo che già oggi di fatto si sia molto vicini più per decisioni giurisprudenziali che non per la norma in quanto tale ma il principio sacrosanto verso il quale sul quale noi abbiamo messo la fiducia era molto semplice e debbo a Ivan e ad altri anche una lunga discussione fin dai tempi della Leopolda il tema era ma due persone che si vogliono bene che si amano che vogliono fare un progetto di famiglia e quindi di società nella società perché devono essere bloccate dallo Stato e perché devono non poter dire di sì di fronte al sindaco sai che io da sindaco ancora ovviamente non c'erano unioni civili una delle cose belle che facevo a parte il martedì che andavo sempre nelle scuole che era la cosa più bella perché parlavo con i bambini ma era dedicarmi un po' del mio tempo per sposare la gente e venivano dei casi anche stranissimi evito di raccontare alcuni casi insomma avrei volentieri però da ufficiale dello Stato Civile mi piaceva l'idea di sposare le persone poi mi preparavo tutte le poesie d'amore le leggevo una volta mi ricordo ho fatto un matrimonio bellissimo ho fatto una poesia d'amore bellissima questi due mi guardavano dicendo questo è rincoglionito loro non lo sapevano tu a un certo punto decantavi in alcuni momenti andavo io no decantavo in dei momenti io mi presentavo perché sai che c'è un funzionario e mi presentavo io e facevo matrimoni facevo due ore di matrimoni piaceva andare impazzire a loro secondo me un po' meno di quanto piacesse a me ma questa è un'altra storia però bello Neruda c'avevo delle poesie di Neruda meravigliose vabbè dai sono uno e un quarto uno e un quarto via prossima domanda secondo te Israele quanto ce ne hai ancora? eh parecchie no vabbè facciamole veloci 5 minuti Israele sta commettendo un genocidio? no perché? perché te io penso che per risolvere oh già ora non voglio ripartire da Abin Salman e Dintorni però il tema è è evidente che da uomo che ama Israele spero che presto ci sia un cambio della guardia e Netanyahu lasci spero che lasci per l'interesse di Israele e della pace nel Medio Oriente ma tutto ciò premesso questo non toglie di una virgola il fatto che il genocidio che si è commesso ai danni degli armeni nel 1915 degli ebrei nel 1943 45 non è tecnicamente la stessa cosa che si sta consumando a Gaza dove ci sono dei una vicenda terribile drammatica e assolutamente da bloccare il prima possibile per bloccarlo il primo messaggio è che va fermato Hamas perché nessuno ha ucciso tanti palestinesi quanto ne ha uccisi Hamas dopodiché la mia speranza è che ci sia un nuovo primo ministro in Israele io c'ho anche un nome tanto al quarto bicchiere terzo bicchiere di milto per me è Yossi Cohen ex capo del Mossad ex chief of staff di Bibi Netanyahu io sono perché Hamas sia distrutta io sono perché l'autorità palestinese sia in condizione di esprimere una leadership più giovane di Abu Mazen più vecchia impossibile e contemporaneamente io nel 2015 alla Knesset ho detto a Israele non hai il diritto di esistere pausa mi hanno guardato e ho detto Israele ha il dovere di esistere ha il dovere di esistere per tramandare quello che è successo a quel popolo straordinario dall'altro lato io di fronte a voi parlamentari dello Stato di Israele dico che noi siamo per uno Stato di Palestina degno di questo nome riconosciuto a tutti i livelli e che abbia la libertà per i bambini di Gaza di essere messi in condizioni di studiare ma se sotto gli ospedali ci fai i tunnel e nei tunnel ci violenti i bambini perché questo sta accadendo ancora adesso non li rilasciano perché li stanno continuando a violentare quei bambini e quelle donne come hanno violentato le nonne come hanno giocato a calcio con i seni delle ragazze questo è quello che ha fatto Hamas questo non vuol dire che allora di conseguenza possa continuare una guerra senza fine ma questo vuol dire che avere consapevolezza che il male parte da Hamas deve portare Israele a avere una reazione che non sia una reazione sproporzionata il limite di questo è complicatissimo e per questo serve la politica e per questo servono gli arabi e per questo serve l'Arabia Saudita agli Emirati la Giordania l'Egitto e per questo serve Israele e per questo che serve un'Unione Europea che non tocca palla te e la tua amica Ursula non tocca palla non c'entra niente non c'entra non c'entra perché non ce la fanno entrare perché non è capace e questo è il problema io sogno un'Europa in cui non mi si dica non c'entra niente ma quindi al posto di Ursula chi è che invece vuoi dei nomi un nome voglio te ne do tre fossi un socialista Antonio Costa portoghese primo ministro del Portogallo un leader fossi popolare Kiriakou Mitsotakis primo ministro della Grecia un leader fossi Renew non è di Renew ma si chiama Mario Draghi e io lo metterò regolo in piedi regolo 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 dai è dell'undici e venti via sì adesso se ne andiamo anche perché non vorrei dirlo ma abbia fatto una bottiglia d'acqua tre Mirto e io ho cinquant'anni metti in fila i punti esiste uno scenario in cui l'Europa manda truppe in Ucraina penso di no e spero di no io non credo che la soluzione sia quella di mandare le truppe sul territorio io credo che la soluzione sia quella partiamo dal presupposto Vladimir Vladimir Putin è il responsabile di questa vicenda punto e l'invasione dell'Ucraina è un'invasione criminale punto una volta che ho detto questo non applaudite che si perde tempo vi racconto un fatto accaduto a Milano no questo ve lo racconto se volete andate via o beneficamente ve lo racconto uguale novembre del 2014 l'Italia è presidente di turno dell'Unione Europea io convoco Putin e Poroshenko convoco perché sono d'accordo con gli americani se no con il cavolo che veniva con me viene François Hollande Angela Merkel e David Cameron l'incontro si svolge in prefettura a Milano c'era già stata la Crimea Maidan e c'era già stato un articolo straordinario di Henry Kissinger 6 marzo 2014 sul Washington Post tutte cose per chi ama la politica estera e non si ferma i titoli facciamo questo incontro e proponiamo d'accordo con la Farnesina a Putin e Poroshenko di siglare un accordo l'accordo dice sostanzialmente ve la faccio breve che Donbass e Lugansk devono diventare come l'Alto Adige cioè territori dentro l'integrità ucraina ma contemporaneamente territori con una speciale autonomia per le persone di lingua russa Putin ha detto di sì Poroshenko ha detto di no questa è la storia allora voi dite quindi Putin ha ragione no Putin è colpevole di essere passato con l'invasione militare non dalla parte del torto forse già partiva ma di aver violato ogni tipo di regola internazionale ma la verità è che la complessità della politica estera richiede che qualcuno prenda si metta lì e cerchi di unire e non è io penso che Macron abbia sbagliato nel dire quello che ha detto e lo penso perché penso che si debba arrivare a una pace che non sia la resa che vorrebbero la sinistra di peace and love ma non sia nemmeno un confronto atomico tra Francia e Russia che sono due paesi che hanno l'atomica e quindi la politica è lo strumento con il quale si prova a trovare una soluzione e farlo è difficile e farlo non è non passa dai tweet dalle frasi effetto dagli slogan non è virale un video non diventa virale il reel in cui tu spieghi come fare l'accordo serve la diplomazia Alessandro e purtroppo la diplomazia l'Europa non c'è dai se non ci fosse Ursula von der Leyen questa l'abbiamo risolta due velocissime una te la devo fare assolutamente pensi che la tua riforma sulla Rai sia stata un fallimento perché da che bisognava tirar fuori i partiti dalla Rai mi sembra che in questo momento il governo abbia un'influenza sulla Rai che è ancora maggiore che in passato trovo questa polemica una barzelletta ok perché sembra che siamo arrivati noi e il paese abbia visto la Rai in mano ai partiti come se prima la Rai fosse delle fondazioni culturali delle associazioni di volontariato e delle ONG dell'Africa subsahariana che non è quello che ho detto no non quello che ho detto si è no 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 tu mi domandi la riforma della Rai sapete in cosa consiste la riforma della Rai nostra la faccio semplice l'amministratore delegato decide e l'amministratore delegato è scelto dal governo e poi ha bisogno di un voto di conferma ci sono sette consiglieri d'amministrazione quattro espressioni del Parlamento votati dal Parlamento prima li votava la commissione di vigilanza ora li vota il Parlamento cambia niente il presidente ha bisogno di essere una persona per mille motivi super partes cioè eletto con una diciamo un sostanziale peso maggiore e poi c'è il fatto che i dipendenti della Rai prima azienda pubblica italiana eleggono un loro rappresentante meccanismo che io vorrei mutuare per tutte le aziende sul modello tedesco i dipendenti che si eleggono uno dentro dov'è l'elemento di maggiore ruolo dei partiti la vigilanza prima definiva i consiglieri oggi li definisce il Parlamento io non vedo nessun tipo di preoccupazione quando è entrata in vigore la riforma Renzi quando al governo c'era colui il quale oggi la critica cioè Conte che ne ha ampiamente approfittato per scegliersi l'amministratore delegato che voleva quindi è stato un fallimento ma perché fallimento l'amministratore delegato chi lo sceglie se non il governo finché la rai è o tu fai una fondazione modello bbc e allora una fondazione senza alcun riferimento parlamentare ma non hai il controllo del Parlamento o è chiaro che il Parlamento esprime una maggioranza la maggioranza esprime un governo il governo indica l'amministratore delegato la rai noi quando abbiamo scelto il loro direttore generale abbiamo preso un professionista Antonio Campodallorto dice ma Renzi ha fatto quello che voleva la rai ma de che a me non mi invitavano le trasmissioni alla fine ed ero presidente del Consiglio io ho fatto i confronti per il referendum con la Meloni che aveva il 3% e perché non l'hai fatto il modello bbc? perché non c'erano i numeri in Parlamento per averli non c'era la maggioranza perché non hai fatto questo perché non c'era la maggioranza bene abbiamo fatto una legge che dà semplicemente il potere ai dipendenti di mandarsene uno in Consiglio di Amministrazione e questo sarebbe un grave danno ma di che cosa stiamo parlando il tema vero è che sulla Rai Meloni e 5 Stelle fanno gli accordi non a caso la vigilanza hanno messo una grillina e non a caso tanti programmi non a caso Gomez del Fatto Quotidiano è sulla Rai oggi non a caso la Costa Magna è sulla Rai ma di che cosa parlano? ci raccontano parlano di lottizzazione coloro i quali sono abituati a lottizzare e ci fanno anche la predica io io capisco che tu possa fare una battaglia morale ma quando sei talmente doppio giochista ad avere due morali risparmiati le questioni etiche parla di politica i 5 Stelle hanno banchettato al tavolo della Rai come tutti più di tutti io ricorderò sempre di aver fatto un meccanismo per il quale Antonio Campodallorto mi chiama e mi dice posso mettere Carlo Verdelli a fare il direttore della comunicazione della Rai cioè a decidere le testate di informazione e gli ho fatto ti piace? sì e allora fallo che me lo vandi a fare sai c'è un problema quale? Verdelli tu non lo conosci lo so che non lo conosco ah pensavo tu volessi mettere uno dei tuoi guarda io Verdelli lo ricordo quando faceva il direttore di Vanity Fair e della Gazzetta non l'ho mai visto non so chi è mi piace come scrive se vuoi ma lo decidi te chi è il direttore di informazione non io trovatemi un altro premier che ha fatto questo o ditemi che sto dicendo una menzogna sta roba che io lottizzavo la Rai dai veramente dice ma tu Giannini è entrato in Rai con noi ok ditemi se è vero o non è vero sto chiedendo se il cambiamento che tu hai imposto ha avuto non abbiamo imposto abbiamo un cambiamento minimale la Rai il cambiamento culturale della Rai non ce l'abbiamo fatta perché non c'era i numeri 11 e mezzo siamo a due ore e mezzo di chiacchiere di libero faccio l'ultima domanda perché non per me io posso restare qui devi fare la pipì l'ho capito no a parte la pipì è chiaro è chiarissimo no vedo delle facce faccio l'ultima 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 oppure me ne vado no dai allora nel tuo libro è bello che prende in giro ma si sta avvicinando anche lui alla punta della sedia state notate pure io ho 40 anni che devi fare tu nel tuo libro identifichi tre problemi principali dell'Italia che sono la denatalità la legalità e l'istruzione ti chiedo un flash una riforma impopolare che però sarebbe necessaria su ognuno di questi temi della natalità parto visto che la vuoi impopolare istruzione portare il merito nella scuola io ci ho provato con la buona scuola che era una grande legge e ho perso la 107 che ha permesso tante assunzioni aveva anche un capitolo sul merito che è stato anacquato dai sindacati sarò felice quando nell'istruzione e nell'educazione la parola merito non sarà una parolaccia perché un professore entra in classe e dice ai ragazzi che devono fare il meglio dei loro stessi perché noi non possiamo giudicare come vanno gli insegnanti e dobbiamo affermare una visione sindacale della scuola primo punto secondo punto legalità ti ha detto? la natalità non ho la proposta shock ok quindi è per quello che la stai lasciando e ci sto pensando se mi arriva a mente volevo dire legalità ma io ti volevo parlare della denate potremmo andare ormai siamo una coppia che potremmo andare avanti per le prossime quattro sulla legalità penso ci sia un principio noi siamo cresciuti tu sei più giovane molti di voi sono più giovani con un'idea giustizialista della politica un'idea folle un'idea sbagliata un'idea per quale era tutto un complotto un'idea per la quale i magistrati erano bravi politici cattivi nella guerra dei 30 anni che ha seguito Tangentopoli noi abbiamo raccontato una storia sbagliata dell'Italia la vera grande rivoluzione in Italia è tornare al garantismo e alla responsabilità dei magistrati se un magistrato sbaglia deve pagare non è pensabile che sbaglino e paghino i dottori che sbaglino e paghino i giornalisti e che un magistrato non paghi mai perché è iscritto alla corrente giusta del CSR sulla natalità nella natalità ma non me ne frega niente dopo due ore e quaranta non posso che dire crescete e moltiplicatevi ragazzi non so che fare dai buonanotte a tutti grazie Matteo Renzi una serata a tutti vado di qua grazie mille grazie grazie è durata grazie ma grazie 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 e comunque e comunque c'è grazie raga spero vi siete divertiti spero sia stato interessante io sarei rimasto veramente ore e ore perché c'è un sacco di altre cose da chiedere molta attenzione sulla rabbia solita però per me quello era molto importante quindi scusate se vi ho un po' annoiato su rifare semplesse domande ma volevo le risposte che non so se ho tenuto però insomma spero che al massimo tra le righe qualcosa sia emerso grazie a tutte e tutti vi lascio scappare verso le vostre dimore verso i vostri treni verso so che c'è un casino quindi sarete tutti fermi a casa a piedi non ne ho idea ringrazio anche gli sponsor ringrazio Tridom ringrazio NordVPN ringrazio la mia redazione che è una cosa che non faccio mai che mi aiutano a preparare queste questi night lavorano tantissimo grazie seriamente senza di loro tutto questo non sarebbe possibile i ragazzi tutta la produzione che vengono qua mettono in piedi tutto ci tengo a ringraziarvi tutti quanti e niente ed è finita quindi fatele brave fate i bravi e ci vediamo alla prossima che vi assicuro sarà buonanotte qui abbiamo il reparto camere il reparto dove c'è un rapporto di amore e d'odio più odio più odio mandami un bacio ho smesso Nicola lascia le cose in giro hai tante Paolo che si stanno Paolo dice che lasci tutto in giro non commento proprio come sto disco degno di un fil di canno ci vediamo sulla stessa dove il titano venticillato dato che io devo farti sempre le domande insomma come prepari tu le domande agli ospiti pago delle persone no no cerco di fare le domande che tutti vorrebbero fare che credo che sia la base tutti vogliono fare le domande che non sono mai state fatte però è vero cerco di fare le domande che vorrei sentir fare a queste persone quando le guardo più tante e pago delle persone ok le spiega momento con parenti sempre momento complicato momento complesso però a questo giro siamo abbastanza vicini già in partenza buon piazzato i fatti mi sembrano sì dai adesso manca il blu la back mi sembra che uno sia più intenso dell'altro hanno largato i cosi aspetta che guardiamo gli ultimi due li portiamo dopo le teste mobili oddio adesso si vede molto poco puoi fare la backlight iniziamo a metterli verticali non va bene io rifarei proprio da capo e facciamo tutto rispetto al confronto con Conte come ti aspetti questo con Renzi? c'è da dire che quando tu lo guardi in tv cerca di fare il simpatico la battuta cerca di essere coinvolgente quindi io spero che lui voglia fare quella roba là è andata bene ti sei divertito? moltissimo moltissimo è stata una delle mie puntate preferite è stato veramente veramente interessante divertente è stato furbo ciao amici ciao amici Grazie.